Ciao ragazzi, come state? Benvenuti a tutti in piazza square! Benvenuti a tutti in piazza amici, come state? Siamo già in diretta con un nuovo test! Ragazzi c'è Sergio Fons quando ha scritto questa sigla sapeva già tutto! Eh certo, aveva già anticipato tutto! È l'intro perfetto per le nostre dirette! Sì, era un veggente lui, un veggente così come Satoshi Nakamoto dai per per chi è più dentro l'ambito di questa nuova tecnologia che si chiama blockchain ma che non è l'argomento di questo video o di questa diretta! Qual è l'argomento della diretta? Beh divertirci insieme imparando l'italiano, no? Oggi siamo pronti con tantissime domande qua per voi che abbiamo preparato e siamo felicissimi di essere tornati perché come sapete l'altra settimana tra tante cose non ce l'abbiamo fatta! Abbiamo però sentito il calore dei nostri amici! Certo, quindi siamo molto felici che avete insomma compreso le nostre difficoltà e che siete comunque rimasti e ritornati sul nostro canale! Certo, avevamo pianificato la diretta per martedì scorso, poi siamo stati in Sicilia, abbiamo fatto tutto di corsa, tutto velocemente, siamo partiti dall'Austria, siamo andati fino al Sicilia che è un'isola nel sud d'Italia per chi non lo sapesse e siamo tornati il tutto in tre giorni e in più con altri motivi personali non siamo riusciti ad andare in diretta! Esatto, tra problemi tecnici, test di qua, test di là, eh? Alla fine è andata così, ma non fa niente! Perché speriamo di recuperare! E arriva già una donazione da Alex Moreira Andrade! Grazie mille! Ciao, un giorno mi piacerebbe fare lezioni con voi online! Anche a noi piacerebbe tantissimo e sicuramente un nostro obiettivo nel futuro prossimo cominciare a fare delle lezioni! Speriamo, speriamo di poter concretizzare questo progetto! È una domanda che ci viene posta molto spesso se insegniamo online! Noi non abbiamo ancora cominciato però sicuramente è tra i progetti futuri del breve periodo anche! Sì, sì! Ci piacerebbe fare magari anche delle lezioni di gruppo o delle lezioni individuali, vediamo insomma! Esatto! Però sì, rimanete qui con noi che ci saranno tante cose nuove da annunciare! Aspetta! E per Alex è de gole, è de gole, è de gole, è de gole! Grande Alex, grazie mille per la tua donazione in valuta brasiliana che è equivalente a circa 5 euro! Ci fa davvero tantissimo piacere! Grazie mille! Guarda, tante persone ci dicono che siamo mancati la settimana scorsa, ad esempio Giacomo Peters! Mi mancavate la settimana scorsa, ero triste! Nooo, non essere triste! Noi ritorniamo sempre più forti di prima! Anche anche Marcello ce lo dice! Da una parte mi fa piacere però, ovviamente! Sì! E poi abbiamo Claudio e abbiamo Aida, abbiamo Renato, Mario, Maria, Anna C, Beate dall'Austria e c'è Faustino avevo visto anche questa sera! Sì, sì, sì! C'è Faustino! C'è Faustino! Meno male che c'è Faustino che ci aiuta! Faustino è sempre il nostro braccio destro! Assolutamente! Bene, e voi ragazzi come state? Tra l'altro chiediamo anche se ci sentite, se ci vedete bene prima di cominciare e magari nessuno ci sta sentendo! Perché magari abbiamo parlato per quattro minuti e non si è sentito nulla! Può essere! Con questi problemi tecnici potrebbe anche essere! Allora, Fellini Claudio spera che questa sia una diretta di tre ore! Ma bene, va bene! Vediamo se arriviamo a tanti spettatori, noi andiamo avanti! Allora, salutiamo anche Giulia e Carlo! Piacere di... cosa vuol dire? Tenerlos de vuelta! Che siete ritornati! Ah, che siamo ritornati! Grazie mille! Tutto bene! Si vede, si sente alla grande e Faustino scherza, dice non si ascolta! Va bene! Allora, vogliamo cominciare con le domande o raccontiamo un po' qualcosa di personale? Qualche aneddoto? Hai qualcosa da raccontare, Carlo? No, volevo dire che noi siamo in Austria al momento perché tante persone sono sempre curiose di capire dove ci troviamo, dove non ci troviamo, quindi rispondiamo già adesso intanto che altri amici si collegano! Però c'è anche un bel argomento, Carlo, di cui parlare! Il video delle nonne! Il video delle delle nonne! Allora, è un video di cui noi siamo veramente molto fieri, soddisfatti, ha un valore affettivo per noi! Ed è tra i motivi per cui siamo andati in Sicilia settimana scorsa! Assolutamente, per fare il video alla nonna di Carlo! Eh sì, noi abbiamo preso un aereo, siamo andati in Sicilia ad intervistare mia nonna e tutto questo lo abbiamo fatto solo per voi, perché volevamo farvi vedere la differenza tra una nonna del nord e una nonna del sud. Esatto, quindi vi abbiamo anche insegnato qualche parola in dialetto triestino, in dialetto trapanese e poi insomma avete visto un po' il pensiero delle nonne, quindi confrontavano il passato con il giorno d'oggi e poi abbiamo anche chiesto preferisci, non so, personaggi moderni, insomma, influencer. L'intervista toccava tanti aspetti, dal come si viveva prima, alle usanze tipiche della regione, ai personaggi famosi italiani, quindi un bel video che riassume un po' in modo, speriamo, divertente, la cultura italiana. Beh, ma guarda, abbiamo commenti bellissimi, Yulema dice questo video mi è piaciuto troppo e poi Carla Castiglio dice grandi le nonne. Mar non l'ha ancora guardato. Marte, lo consigliamo vivamente. Sì, ma anche Claudio non l'ha guardato, secondo me, perché non è arrivato il commento di Claudio e neanche il commento di Faustino. È vero. Amici, noi siamo molto attenti a tutti i commenti che riceviamo. Ah, ok, vedi, dice Claudio, mi sbagliavo, l'ho guardato due volte e non sono riuscito a scrivere un commento, ero emozionato ricordando della mia nonnina. Oh, che bello. Eh, effettivamente abbiamo risvegliato molti ricordi, secondo me, delle persone. Ve lo giuriamo, ragazzi, l'abbiamo fatto per voi, siamo andati in Sicilia per fare questo video e perché abbiamo pensato spesso, tanti dei nostri amici hanno origini italiane e forse saranno felici nel vedere le signore anziane in Italia che magari ricordano un po' proprio i loro antenati o i loro parenti. Sì. Bene, sono molto contenta che il video sia piaciuto. Sì. Insomma, abbiamo tanti commenti bravi alle nonne. Sì, Marcello dice, mi siete mancati o avete mancato? Mi siete mancati è il modo giusto di chiedere. Sì. Le nonne greche fanno anche la croce per mandarvi a Malocchio, vedi, tante... ci sono tante tradizioni. Sì. Ma guarda che dopo aver concluso il video, mi sono venute in mente tante altre cose che avremmo potuto trattare. Sì. Ad esempio in Sicilia, ma credo che questa sia un'usanza di tutto il sud Italia, è tipico quando un bambino o una persona ha mal di testa, è tipico fare la cosiddetta pigliata a Rocchio. Ah, sì? Cioè si mette un piatto in testa della persona che ha il mal di testa, in questo piatto si mette... è un piatto piano e si mette un po' di acqua e un po' di olio, quindi è anche abbastanza difficile perché l'acqua e l'olio potrebbero cadere dal piatto. Sì. E tramite, non so, le signore anziane riescono a capire da come l'olio si divide nell'acqua, riescono a capire se qualcuno ti ha preso di mira. Ah, vedi, io non lo sapevo questo. Quindi ci sono... Sarebbe stato bello che tua nonna... Ma Giulia ci sono così tante usanze o così tanta... c'è così tanta cultura... Certo. Che... Che potremmo trasmettere, no? Che è custodita dai nostri nonni e questo era l'obiettivo del video, proprio... È un peccato perderla, no? È meglio catturarla in un video e riuscire a trasmetterla a più persone possibili. Sì, esatto. Vogliamo dare voce noi alle persone speciali che ci sono, sia in Italia che fuori dall'Italia, così come Dorotea o Giudith o le tante persone che abbiamo intervistato finora. Ok, c'è una correzione su quello che ho detto sulla pigliata rocchio, dice Mario Piazza, il piatto è fondo, non è un piatto piano. Ah, beh, ha più senso effettivamente, no? Che cosa significa, chiede Lara LOL, cosa significa prendere di mira? Prendere di mira qualcuno, quando oddio, come lo spieghiamo? Quando qualcuno ti ha puntato, diciamo che vuole proprio te, quindi prendere di mira significa che magari vuole assillarti, torturarti. È un po' come maledire qualcuno. Sì. Adesso maledire forse è un verbo più forte. Un po' troppo forse, sì. Ok, allora leggiamo un altro paio di commenti e poi cominciamo con il test perché siamo già in più di 80 spettatori, quindi direi che è già un numero importante per cominciare. Sì. Diciamo quello che ha scritto Timothy mi piace, quindi dice l'intervista doppia con le nonne era molto interessante. Fate una sorpresa ogni volta e siete imprevedibili. Una caratteristica carina del vostro canale. Che bello. Grazie mille della tua recensione, Timothy. Grazie mille del tuo commento. Ci fa molto piacere. Se siete d'accordo con Timothy, lasciate un mi piace. Ricordatevi assolutamente di lasciare il mi piace, ragazzi. E noi cominciamo, dai. Dai, cominciamo. Siamo in quasi 90 persone. Cominciamo, dai. Sì. Allora, 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 fateci, lasciateci un secondo per andare piccolini e vai con la prima. Il motto è sempre quello, mani sulla tastiera, ovviamente. Siete mai stati a Siro? Si tratta di un'isola greca? Purtroppo no. Purtroppo no. Dobbiamo allenare quotidianamente un nostro mento. Quindi dobbiamo vedere qual è l'articolo giusto, poi dobbiamo concordare o maschile o femminile, non lo so, non diciamo troppo. Sì, e o i. Diciamo che il problema è lì, sta tutto nel... Sì, e poi c'è l'articolo. I, le, gli. Dobbiamo allenare quotidianamente. Opzione A, i nostri menti. Opzione B, le nostre mente. Opzione C, gli nostri menti. Opzione D, le nostre menti. Allora, vedo D, B, e D e B, diciamo, principalmente. L'unica opzione che non è stata selezionata è la A. No, una volta sì, però... Però sì. Qualcuno sì. Allora, ragazzi, attenzione con maschile e femminile. È molto complicato in tutte le lingue che si imparano, devo dire la verità, perché anch'io in tedesco... Eh sì, è veramente una grande difficoltà. In tedesco specialmente è la cosa più difficile da sapere. Sì. Anche perché poi dal maschile e femminile dipende l'articolo di, der, das... Insomma, è una confusione totale. Allora, partiamo col capire se mente è femminile o maschile. È la mente. Quindi al plurale le menti. Esatto. Ok? E quindi le nostre, nostre perché è plurale femminile, menti. Quindi la risposta corretta, cari amici, è la D. Abbiamo bisogno dell'articolo determinativo plurale femminile, le. Esatto. Quindi le nostre menti. E siccome un plurale è mente, al singolare termina in E, noi sappiamo che il plurale delle parole che al singolare terminano in E è in I. Allora, Faustino ci manda già la classifica, quindi andiamo velocissimi questa sera... Sì, al primo posto, Aida! Che non so se abbiamo salutato prima, ma colgo l'occasione. Ciao Aida, benvenuta. Aida, sono curioso, sei ancora in Spagna? Sei in Catalogna? O ti sei già trasferita? Si può dire in pubblico dove sei? O non nel dettaglio, ovviamente, ma il paese, si può dire? Dai, vediamo se lei decide di dirlo. Siamo curiosi, noi non diciamo niente. Al secondo posto abbiamo Neto Noale. Sì, complimentoni! Complimenti! Questo è il secondo dito più veloce. Il terzo dito più veloce è Claudione! Claudio Fellini! Grande Claudio Fellini, terzo posto per te. Il quarto posto c'è Rosa, Rosa, Rina Romi. E al quarto posto Maria Ester. Complimenti! Quindi cominciamo subito con un bellissimo podio. E siamo già a 100 spettatori, quindi siamo contenti in 15 minuti, siamo già a 100. Lasciamo il mi piace e andiamo a vedere la prossima. Salutiamo anche Ines Garcia, ciao! Vera Friedrich, chiaramente, che aveva anche risposto bene. Sì, sì, sì. Se non sbaglio. Sì, sì, è la scritta per intero. Bene, non perdiamoci in altre chiacchiere e continuiamo subito. Ah, aspetta un secondo. Prima di andare alla prossima, mi sembra dovuto fermarci un attimo e rispondere alla domanda di Claudio. Claudio non ha tutti i torti. Lui dice, e se la parola fosse mento anziché mente, a quel punto sarebbe, dobbiamo allenare quotidianamente i nostri menti. Ok, sì, in questo caso sì. Sarebbe... Ma come si può allenare il mento? Quindi Claudio, nel caso fosse il mento, il soggetto della frase... Allora sì, i nostri menti. O meglio, non il soggetto, il complemento della frase, il complemento oggetto, allora sarebbe la risposta A. Però il mento è difficile da allenare, di solito si allena la mente. Ovviamente, però ottima osservazione Claudio e fa piacere leggere queste osservazioni, vuol dire che se è a tale livello, no? Sì, sì, è a un livello tale da poter anche trovare altre alternative e soprattutto vedere i nostri errori. Sì, allora, andiamo con la prossima, mani sulla tastiera per gli amici di Instagram. Venite su YouTube, perché su YouTube potete leggere la domanda e andiamo noi qui con la prossima. Vai! Ah, forma di cortesia, perché la frase inizia con signora. Devo chiedere un favore. Prego di abbassare la voce. Ok, quindi... Opzione A Opzione A Le devo chiedere, le prego. Le devo chiedere, la prego. Questa era l'opzione B, eh? Sì. Opzione C La devo chiedere, le prego. La devo chiedere, la prego. Va bene, abbiamo letto le opzioni. Stanno arrivando più che altro B dai nostri amici. Beh. Le devo chiedere un favore, la prego di abbassare la voce. Ed è proprio così, ragazzi. Che bravi, ragazzi. Quindi pronomi siamo messi bene. Siamo messi bene con i pronomi, specialmente quando si tratta della forma di cortesia. Non andiamo troppo nel dettaglio con la spiegazione, amici. Perché le risposte sono state... ci sono state molte risposte corrette. Se avete bisogno di una spiegazione ce la potete chiedere. Ma comunque, se non avete chiaro questo argomento, dovete andare a ripescare o a ripassare... Il nostro video. I nostri video sui pronomi. Sì. Ma trovate tutto sul nostro canale. Anche la forma di cortesia. Non dimentichiamoci. E Faustino ci manda la classifica. Al primo posto... Beate Sedlacek. Complimenti. La nostra amica da Vienna. Grande Beate. Secondo posto... Aida. Al terzo posto... Jean-Pierre. Quarto posto... Martin. E al quinto posto... Marine. Allora, aspetta un secondo. Vediamo se... Sì, Martine M e Marine Bazzoli. E Jean-Pierre Bourdin. Bene, 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 bene. Salutiamo anche Fernando che ci lascia tantissimi commenti sotto i video di YouTube ed è molto apprezzato. Molto apprezzato. Ti ringraziamo. Non era chiaro lo schermo per me, dice Claudio. Non capisco a cosa ti riferisci, Claudio. Forse è la domanda di prima, va bene. Comunque, non era chiaro vuol dire che adesso è chiaro. Perché sta usando il passato. Non lo so. È tutto chiaro allora. Andiamo avanti con la prossima. Bye. Domani vorrei andare al mare. Vuoi venire? Quindi vi vuoi venire? Ci vuoi venire? Si vuoi venire? Ne vuoi venire? Diciamo che questa domanda poteva anche essere posta senza nulla. Quindi semplicemente vuoi venire? Esatto. Ma in questo caso noi diciamo proprio vuoi venire al mare. Quindi siamo specifici. Stiamo proprio indicando un luogo. Vi ricordate ragazzi quale particella si usa in questo caso? Giulia mi è caduta l'acqua addosso. Giulia mi è caduta l'acqua addosso. Mi dispiace. Mi dispiace. Spero che non si veda in diretta. Va bene. Allora. Tante B arrivano. Vedo soprattutto risposte di questo tipo. Sì. Locazione uguale C. Questo è il commento di Nilay Akhtrurk. Akhtrurk. Spero di averlo pronunciato bene. Ma Nilay ha completamente ragione. Complimenti. Mark chiede. È un rafforzativo qua. Direi che è un qualcosa di simile. Sì. È più quando si vuole essere specifici. Cioè. Ci vuoi venire? Esatto. Significa proprio al male. Eh. Però ovviamente si può dire anche vuoi venire. Va bene comunque. Sì. Ok. Allora. La classifica non ci è arrivata. Quindi lo andiamo a... A pescare noi. Aspetta. E arriva una donazione da Fernando Contreras. Grazie. 5 euro. E de gole, de gole, de gole, de gole. Grazie Fernando. E nel frattempo arriva anche la classifica di Faustino. Perché l'hai rimproverato, poverino. Non arriva la classifica. È il primo posto. Il dito più veloce è quello di Aida. Secondo posto abbiamo Mar. Persephone Underworld. Esatto. Quarto posto Vera. Vera Friedrich. Sì, Vera. Sì, è lei. È lei. Grandissima Vera. Sono contento di vederti al terzo posto. Il quarto posto è di Beate Sedlacek. E al quinto posto di Martin. Martin. Ma Faustino ha anche voluto premiare Marcelo che si classifica al sesto posto. Io direi Martin e Marcelo quinto posto a pari merito. Va bene. Eh? Eh, guarda Vera com'è contenta e manda un emoticon di una donna che balla. E dice Ines Garcia non ne azzecco una. Non ti preoccupare Ines perché c'è ancora un sacco di tempo e tante domande per rifarti. Sì, allora abbiamo risposto, abbiamo premiato, manca di andare alla prossima. Eh sì. Ma come dice Claudio siamo in 105 persone e ci sono solo 65 mi piace. Quindi ricordiamo a tutti di schiacciare il tasto mi piace, distruggete il tasto mi piace in questo momento. Prendetevi 5 secondi per farlo, per noi è molto importante. Non solo è molto importante, è obbligatorio schiacciare mi piace, obbligatorio. E Silvain Rodi ci lascia un messaggio. Dov'è? Non so perché, ma trovo che Carlo e Giulia parlano bene l'italiano per degli austriaci. Come mai? Quindi come se noi fossimo austriaci. Sì. Però purtroppo, cara Silvain, parliamo bene l'italiano ma non il tedesco. E Annette ci deve dare qualche lezione di tedesco. Ciao Annette, sei in ritardo. Ma non ti preoccupare, benvenuta, cara Annette. Sei ancora in tempo, sei ancora in tempo. Abbiamo cominciato da mezz'ora già. No, da 22 minuti. No, hai ragione, 22. Non è tanto, dai. Lorena Morava dice, ciao ragazzi ci siete mancati. Ciao Lorena, grandissima. Anche voi ragazzi ci siete mancati. È stato un dispiacere per noi non poter farla diretta. Uh, ho schiacciato msy per errore. E che cosa vuol dire? Mani sul YouTube. Mani su YouTube. Dai, mani sulla tastiera. Perché? Perché vogliamo vincere il premio per il dito più veloce. E quindi con le mani sulla tastiera riusciamo a rispondere velocemente. Vai! Sinonimi! E contrari. E Annette dice mani sulla yastiera. C'è anche lui, Bob Mazzo. Learn Italian con l'americano. Amici, attenzione, questo è un contrario, non è un sinonimo. È un contrario, eh? Leggete bene, perché poi ogni volta venite a darci il sinonimo quando noi chiediamo il contrario. Ah sì, ragazzi, attenzione. Comunque, cosa vuol dire opinabile? Anzi, il contrario di opinabile. Ma chiaramente devi sapere cosa vuol dire opinabile se vuoi indovinare qual è il contrario. Contestabile, indiscutibile, soggettivo, confutabile. C'è solo una parola che non sta bene in questo gruppo di parole. Qual è? Qual è questa parola? Allora, Alex Moreira Andrade si è immaginato che noi... Si è immaginato noi mentre balliamo la tarantella con l'emoji della donna che balla, che aveva lasciato vera. Sì, vera. Sì. Grande Alex. Allora, facciamo un po' di promozione a Learn Italian con l'americano, perché lui è un signore del New Jersey che insegna l'italiano per gli americani. Quindi, per chi avesse già una buona base di inglese e volesse imparare l'italiano, iscrivetevi al suo canale. Lo trovate in chat, si chiama Learn Italian con l'americano. Esatto, già che siamo in questo tema, io vorrei anche ricordare, forse non ricordare, ma annunciare ai nostri amici che domenica sera saremo in diretta su un altro canale che insegna l'italiano. Sì. Con Sonia e Brian. Che conoscete già il loro canale? Beh, hanno tanti canali, ma il loro canale che ci ospiterà domenica è Italian Time. Sì. Quindi è quel canale che, tra l'altro, per me ha una sigla. E arriva una donazione da Neto Noale. E' de gole, e' de gole, e' de gole, e' de gole. E' anche lui in valuta brasiliana. Hey, how is it going? How is it going? Thank you, Neto Noale, grazie. Anybody who knows English is welcome. Grazie Carlo. È un piacere, caro Bob. Quindi... Bene, Carlo, ci stiamo perdendo in troppe chiacchiere, ci stiamo dilungando un po' troppo. Il contrario di opinabile è... Indiscutibile. Quindi se una cosa è opinabile, significa che è una cosa su cui si può dire la propria opinione, su cui si può discutere. In realtà, le altre tre opzioni... Sono tutti sinonimi. Sono dei sinonimi. Esatto. Quindi con questa domanda portate a casa cinque parole nuove. Opinabile, contestabile, indiscutibile, soggettivo e confutabile. Esatto. Sinonimi tra di loro. La B è un contrario, le altre hanno tutte lo stesso significato. Ma ovviamente non dovete prendere appunti adesso, perché potete scaricare gratis il materiale sul nostro sito. Esatto. Quindi avrete tutto a vostra disposizione un minuto dopo la fine della diretta. E nel frattempo voglio anche salutare Ines Balzola, che dice che è ritardo, ma che le nostre nonne sono incantevoli. E io voglio salutare Tom Holland dal Marocco e fare la classifica. Assolutamente. Il dito più veloce per il nostro primo sinonimo e contrario della serata va a Fernando. Bravo, Fernando. Primo posto. Secondo posto c'è Annette dalla Germania. Il terzo posto è di Mar, Persephone Underworld. Il quarto posto è di Jean-Louis Chevredon. E al quinto posto si classifica Fellini Claudio. Benissimo. Bella classifica, bella classifica ragazzi. Complimenti, bene, bene così. Esatto, bene. Wow, allora guarda che bella comunità comunque. Faustino che dice Ines bentornata. Faustino da sempre il benvenuto a tutti. Sì. Ed è bellissimo. E andiamo avanti con la prossima. Che cosa ci aspetta? Vai, io e Marco siamo parenti alla... Come siamo? Alla buona, alla cieca, alla lontana, alla distanza. Chi sarà avvantaggiato qua? Chi ha visto il video 12 espressioni con Alla? Ah, guarda, mi hai colto impreparato Giulia. Stavo pensando già, oddio, chi è che è avvantaggiato questa volta? Eh sì, perché noi comunque tante volte facciamo delle domande di cui abbiamo già parlato, no? Sì, per precisione non sono domande, come dice sempre... Delle frasi da completare. Come dice sempre il nostro amico Francesco Vaporetto Italiano. Salutiamo, ciao. Non sono domande. Se ci sta guardando, non so se ci sta guardando, però non sono domande, sono frasi... Da completare. Ma noi per... Questa comunque, questa comunque è tratta dal video di Giulia. Sì. In cui spiega 12 espressioni con Alla. Giulia ha fatto tanti video in cui vi spiega espressioni in italiano. Carlo non ha guardato il video di Giulia, dice, ma sarà vero? L'ho guardato. Ragazzi, dobbiamo indagare. L'ho guardato, ma non me lo ricordo, perché ne ha fatti tanti, tanti. Ed è uno spettacolo che ne ha fatti così tanti, perché per chi deve imparare è una risorsa incredibile. Quindi face... trattavo delle espressioni come alla buona, alla cieca, alla lontana, alla faccia, alla salute, alla nostra... Dai, diamola Giulia, qual è? Siamo parenti alla lontana. Cosa vuol dire? Che non è un parente stretto, magari siete cugini di terzo grado, insomma, che non siete proprio parenti prossimi. Esatto, direi che l'opposto di parenti alla lontana è parenti stretti. Sì, parenti stretti. Tra l'altro, Carlo, questa espressione è stata usata da Bob l'americano. Learning Mutual Americano, nel video sul nostro canale. Ciao, Miguel! Grande... scusa, Giulia. Ciao, Miguel! Non posso non interromperti. Quando arriva Miguel... Interrompiamo tutto. Vai, vai, scusa, mi dicevi... No, ho finito, in realtà. Ah, sì, quello che dicevi. Bob, Learn Italian con l'americano, che è stato intervistato da noi. Sì. Parla... Usa questa espressione. Che, tra l'altro, esiste anche in spagnolo, come ci fa ricordare Marcello, si dice parente lejano. Ah, vedi. Sì. Quindi parenti alla lontana o allo lejos, credo si possa anche dire. Va bene. Bene, abbiamo premiato? No. Non abbiamo premiato. Vediamo se è arrivata la classifica da Faustino. No. No, dai. Lo andiamo a cercare noi. Dai, Faustino, non ti preoccupare. Riposati un attimo. Allora, al primo posto c'è Mar. E arriva la donazione da Anna C. E dei gol, e dei gol, e dei gol, e dei gol, e dei gol. Grazie. Grazie per i martedì divertenti. Grazie a te, Anna, per essere sempre qui con noi e per le tue donazioni. Ricorrenti. Ricorrenti, veramente. Siamo troppo felici. Grazie. Ogni settimana Anna C. ci lascia la sua donazione. Così come altri amici. Come tanti altri, certo. Ringraziamo tutti. Bello, bello così. Bello, grazie. Allora. Allora, devi cercare la risposta C. Primo posto per Mar. Complimenti. Secondo posto, Aida Madern. Sì, bravissima. Terzo posto, Martin M. Dalla Germania. Quarto posto, Fernando. Da Madrid. E quinto posto, Marine Bazzoli. Carlo sa la provenienza di tutti. Marine Bazzoli, se non sbaglio, dalla Francia. Speriamo Carlo, perché ho proprio appena messo una buona voce. Allora, quelli che non hanno visto il video di Giulia, ascolteranno le imprecazioni educate di Giulia. Eh sì, perché uno degli ultimi video è proprio questo, imprecazioni educate. E dico, mamma mia, accipicchia, accidenti e tante altre. Quindi vi consiglio di andare a vederlo. Allora, Marine Bazzoli viene da Parigi. Bravo Carlo, dai. Ricordavo bene. Parigi, capitale della Francia, è capitale digitale d'Europa, eh. È una città che ultimamente è veramente al passo con i tempi. Allora. Ah, guarda, Fernando ti suggerisce l'espressione in spagnolo, somos parientes lejanos. Sì, come aveva detto Marcello, eh. Marcello, sì. E guarda, arriva il critico passeggero che, ragazzi... Ah, un italiano. Ci fa un bel commento, dice, sono italiano, ma trovo meraviglioso quanto voi stiate aiutando così tante persone. Che bravi. Grazie, grazie di questo bel messaggio, ci fa molto piacere. Tra l'altro, lui è un critico passeggero, significa che passa e critica, ma questa volta ci ha lasciato... La critica costruttiva. Positiva anche. Positiva. Costruttiva e positiva. Grande critico passeggero. Sì, non è proprio una critica. Ragazzi, a me piace il nome, il critico passeggero. Sì, bello. Bello. Una bella iniziativa. E poi anche Persephone Underworld per gli amici Mar dice, Peccato che non eravate qui la scorsa settimana. Eravamo tutti utilizzando le imprecazioni perché non c'era la diretta. Ah, è vero. Ho visto poi i messaggi in ritardo ed era proprio così. Stavano usando le imprecazioni educate che avevano appena imparato dal mio video, proprio perché purtroppo la diretta era saltata. E allora, Faustino, fai complimenti a Mar per aver ottenuto il primo posto. Complimenti ancora a Mar. Solidarietà, eh? E Mar risponde, sì Faustino, non ci posso credere. Te lo sei meritata, Mar, nel primo posto. Vabbè, ma Mar è brava, eh? Sì, sì. Spesso, quasi sempre sul podio. Va bene, dai, arrivano altre battute sulla diretta. Che l'ho fatto apposta al video, proprio per fargli utilizzare le imprecazioni. Allora, Mundere Dominic, grazie mille per questo corso. Grazie a te Mundere Dominic per il tuo commento. E ricordiamo. Lasciamo tutti il mi piace perché, amici, siamo in 110 e ci sono solo 90 mi piace. Quindi schiacciamolo e andiamo subito a vedere la prossima domanda. Vai, vediamo. Come potete vedere, nella seconda frase non ripetiamo le mele. E quindi ci serve una particella che sostituisce proprio questa parola, no? Per non ripetere. Sì, e io direi che anche sostituisce in modo partitivo. Sì. Cioè, sta anche a significare il fatto che non hai preso tutte le mele. Esatto, ma solamente due di quelle che c'erano. Esatto, solo alcune, quindi una parte. E quale particella si usa? Si usa la particella NE. Bravi amici. Abbiamo fatto un video, io e Carlo, un po' di tempo fa ormai, sulla particella NE. Quindi, se volete ulteriori spiegazioni, vi consigliamo di andare a vedere il video. Sì, ma tra l'altro Giulia... Esatto, Fellini Claudio dice, le ho prese tutte, ma se ne hai prese solo due o tre, ne ho prese due. Eh sì, allora, grazie mille a Nett, che dice, Carlo ha un bel aspetto oggi. Oggi complimenti per Carlo! Per la prima volta ho ricevuto un complimento anch'io. Non è per la prima volta, me lo ricordo io, che ti hanno già fatto complimenti. Si ricorda Giulia, è gelosa. No, ma mi ricordo. Ok, quindi per gli amici che non hanno visto due, hanno risposto LE. Già la birra Carlo! Jean-Pierre Bourdà dice, già la birra! Perché no, perché no? Carlo vuole fare il brindisi con voi. Con la prossima donazione, dai, dedico il primo brindisi a chi fa la prossima donazione. Va bene. Senza nulla togliere a chi l'ha già fatta, ovviamente. Assolutamente. E adesso arrivano tutti i commenti su Giulia, va bene, va bene. Giulia sei sempre bellissima. Giulia non è male. E Marcello, allora li faccio io a Giulia. Ok. No, ragazzi, potete continuare a farli a Carlo. Comunque grazie a tutti. Allora, dai, 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 ragazzi. Continuiamo, vai. Non abbiamo premiato Giulia, non abbiamo premiato. Aspetta, è arrivata la classifica. Sì, è arrivata la classifica da Faustino, quindi possiamo accelerare di tutto. E arrivano due donazioni in contemporanea. Quindi facciamo doppio brindisi, doppio brindisi, doppio brindisi, e dei gol, e dei gol, e dei gol, e dei gol, e dei gol. Alla vostra salute, grazie mille. Allora, se vai un po' più su, io intanto posso leggere la classifica che ci ha inoltrato Fellini. No, Faustino. Scusa, Faustino. Primo posto, Fernando. Ragazzi, Fernando è un campione. Wow. Sempre sul podio, complimenti. Secondo posto c'è Claudio. Claudio Fellini. Io chiamo Fellini di Claudio, dobbiamo metterci d'accordo. Allora, Claudio Fellini, ovviamente, al secondo posto, che è bravissimo, ci ha anche fatto la donazione, quindi. Al terzo posto c'è Aida Madern, anche lei. Anche lei. Complimentoni. Quarto posto c'è Jean-Louis Chebridon. E al quinto posto, Marine Bazzoli. Scusa, ho sbagliato. Marine, c'era. Leggevo Martina. Nostra cara Marine. Marine. Ed e dei gol, ed e dei gol, ed e dei gol. Bravi, ragazzi. Wow, che carica di adrenalina. Allora. Allora, c'è una domanda, mi sa. What is the, ah, ed e dei gol thing that you keep saying? Ah, ok. È una tradizione, ormai un rito che fa parte del Dream Team di Piazza Square. Quando arriva una donazione, noi dobbiamo festeggiare, soprattutto Carlo, con questa esclamazione, ed e dei gol. Quindi, amici, è semplicemente lo stesso, la stessa esclamazione che farebbe un tifoso di calcio, no? Quando la sua squadra, quando la sua squadra del cuore fa un gol. Esatto. Ok? È nata così, per... Secondo me è nata con uno super sticker, una super chat, che diceva gol. Sì. E tu là hai cominciato... Qualcuno ci aveva mandato una super chat... Forse era amiche, non lo so. ...con scritto gol. E allora io, gol! Ed è lì poi sempre, ed è gol. E comunque dice anche Mar, dice, è un classico, ed è anche una domanda classica. Certo, perché chi arriva, chi è nuovo, non lo sa. In inglese si dice score, esatto. Sì. In America, it's a touchdown. Guarda. Salutiamo James, che ci lascia tanti commenti. È vero, James Updike. We love your comments. Thank you so much. We do love them. Ok, quindi capisco che ci sono anche tante persone nuove con noi, eh? Sì. Dalle domande che arrivano. Sì. Bene, benvenuti a tutti nuovi. E arriva la donazione da Stacey Banchieri. Sì, banchieri. Grazie Stacey. 10 dollari statunitensi da Stacey. Wow. Ma ci lascia una dedica bellissima. Un'altra lezione fantastica. Mi piace tanto il video delle nonne. Sono Total Cutie Pies. Cutie Pies. Grazie per tutto quello che fate. Grazie Stacey per la tua donazione. Grazie mille. Significa davvero, davvero tanto per noi. Quindi ti ringraziamo. E allora, e andiamo avanti con la prossima. Quindi tanti amici che sono nuovi probabilmente si chiedono che cos'è MST. Eh, Mariana dice che è nuova, infatti. Ciao Mariana Rebucas. Benvenuta. Significa mani sulla tastiera. Significa pronti per giocare al dito più veloce. 3, 2, 1, vai. Sinonimi e contrari. Qui invece cerchiamo il sinonimo, ragazzi. Prima abbiamo visto il contrario e adesso cerchiamo un sinonimo. Sinonimo di logorroico. C'è anche Andro Leghina. Grande Andro Leghina. Ciao. Il nostro amico pizzaiolo di Los Angeles. Da quanto tempo? Da quanto tempo Andro Leghina? Ci sei mancato. Noi stiamo ancora aspettando la pizza a piazza scuola. Va bene. Ragazzi, dai. Allora, loquace, sintetico, logorato, coinciso. Anche Sieda Rida Fatima è una nuova studentessa. Sì. Allora, per tutti gli amici nuovi che ci guardano per la prima volta, noi siamo ogni martedì in diretta con un quiz di italiano e l'unica cosa che è obbligatoria per partecipare è lasciare il vostro mi piace. Ed è semplicissimo, ragazzi, e non vi costa nulla. Sì. Se siete collegati da un cellulare, probabilmente dovrete chiudere la live chat per qualche secondo per vedere il mi piace. Ma è semplicissimo, amici, dai. E va bene. Direi che ci sono abbastanza risposte, Giulia, per poter andare con la risposta corretta. No, l'hai già svelata. Ho fatto vedere per un millisecondo la domanda dopo. Ma è stato così breve che non riuscirete a tornare indietro. Allora, la risposta corretta, amici, è la A. Logorroico è un aggettivo che descrive una persona che parla tanto, bla 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 bla, quindi una persona loquace. Carlo, prima di tutto, grazie mille a Persephone Underworld che ci ha fatto notare un errore che noi abbiamo scritto coinciso, ma in realtà è conciso. Ah, un errore di battitura. Sì, un errore di battitura sulla tastiera. Sulla D. Quindi, grazie Mar per avercelo fatto notare. Poi lo correggiamo comunque nel materiale che carichiamo sul nostro sito. Sì. Comunque, sintetico appunto, significa una persona che va subito al punto, che non parla molto, quindi non può essere un sinonimo. Logorato non c'entra niente. E conciso anche significa appunto che uno va direttamente al punto. Logorato vuol dire tipo consumato. Sì, sì, che non c'entra niente, no? Quindi forse se tu sei logorroico, la persona che parla con te è logorata dalle tue parole. Andiamo avanti o dobbiamo premiare? Dobbiamo premiare. Ah, ok, vai. Allora, vediamo la classifica. È arrivata da Faustino, quindi al primo posto c'è Fernando che questa sera è imbattibile, ragazzi. Complimenti, Fernando. Sempre al primo posto. Secondo posto, Fellini. Claudio. Terzo posto c'è Ezechiel. Aspetta, è un nuovo amico, credo. No? Allora, vediamo un po' chi è. Ezechiel Goitia. Ciao Ezechiel, benvenuto e complimentoni per essere sul podio al terzo posto. Al quarto posto c'è Aida e al quinto posto c'è Beate. Sì, ok. Allora, andiamo avanti con la prossima, amici MST. Comunque sì, logorroico è una parola che si usa molto, chiede Jennifer e io confermo, sì. Se la lotteria, comprerei una macchina nuova. Quindi, periodo ipotetico, amici. Ma di quale tipo? Nel mentre lasciamo... Mentre lasciamo il tempo per la risposta, salutiamo anche Talk Italian with Aronne. Ciao ragazzi. Buonasera, dice. Come state? Come è stato il rientro? Tutto bene, dai. È sempre stancante viaggiare, no? Sì, ma dato il periodo, diciamo che non è andata così male. Sì. Allora, se vinco la lotteria, se vincerei la lotteria, se vincessi la lotteria o se vincerò la lotteria, comprerei una macchina nuova. Io ho la sensazione che i periodi ipotetici ormai i nostri amici li... Conoscono troppo bene. Li gestiscono anche bene, cioè proprio sanno rispondere bene quando si tratta di un periodo ipotetico. Aspetta, vai su che leggo un po' le risposte. Quale vuoi leggere? No, in generale... Va bene. Volevo vedere qual è la risposta più gentonata. C'è una discussione che va avanti sul coinciso, che è chiaramente il participio passato del verbo coincidere, però non è un aggettivo, insomma. Ci fa anche notare il critico passeggero. Quindi che bello che il critico passeggero, pur essendo italiano, è ancora tra di noi, eh? Grazie di essere qua. Grandissimo. E Ninai chiede, logorato vuol dire vecchio? Potrebbe anche essere un sinonimo di vecchio. No, da... Qualcosa di è distrutto di... Esatto, però... Beh, se è una cosa distrutta... Su un oggetto logorato, magari è logorato anche perché è vecchio, però non è proprio... Insomma, logorato vuol dire anche che è danneggiato in qualche modo. consumato. Sì, consumato, usurato, vecchio, rovinato, danneggiato, deteriorato, lacerato. Qualcosa può essere anche vecchia senza essere logorata. Certo, sì. Ma infatti i sinonimi non sono perfettamente... Allora... Hanno lo stesso significato. Allora, non hacker ok. Ciao, mi saluti. Sì, dai. Ciao non hater. Non hacker, cos'è? Non hacker ok. Ti salutiamo. Ciao. Ci, dice. Ci, ok. Grande. Eh, bravo, 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 non hacker ok. Bravo, non hacker ok sa utilizzare il periodo ipotetico. No, Annette fa un commento troppo divertente. Se diventano sempre più partecipanti, sarà sempre più difficile essere in classifica. È vero, è vero, Annette, però non ti preoccupare perché noi ricordiamo chi sono i nostri amici storici. Quelli che hanno sempre partecipato. E ti abbiamo sempre nel nostro cuore. E Nicolai dice, ciao ragazzi, a me piace molto il vostro lavoro. Bravi, grazie mille. È un piacere. Ok, allora, arriva la classifica da Faustino. Quindi diamo la classifica e poi spieghiamo la frase. Vai. Allora, cosa? La classifica hai detto, no? Sì. Allora, al primo posto, Martin. Complimenti. Martin M. Martin M. Per essere completi. Secondo posto, Beate. Terzo posto, Marcelo. Complimenti. Quarto posto, Mighe. E quinto posto, Claudio Fellini. Bravissimi. Ragazzi, io sono contento di vedere Beate costantemente sul podio. Che brava. Brava, brava, brava. Bene, Carlo. Allora, ti lascio la spiegazione del periodo ipotetico di secondo tipo. Vai pure. Mi stupisce che non l'abbia già scritta Mighe. Perché di solito... Si sarà stufato. La scrive sempre, poverino. Di solito Mighe spiega tutti i periodi ipotetici. Ma chiaramente, amici, qua abbiamo un periodo ipotetico di secondo tipo. Cioè, il periodo ipotetico, quello della possibilità, no? Che si forma con un congiuntivo imperfetto. Quindi, se vincessi, congiuntivo imperfetto. E poi abbiamo nella frase principale... Quindi, nella subordinata, congiuntivo imperfetto. E nella frase principale, condizionale presente. Comprerei. Questo è un condizionale presente. E non hacker, ok, sapeva già che avrebbe dovuto utilizzare, appunto, Cosa dice Vincessi? Ok, a che ora italiana comincia la nostra diretta? Chiede Mariana. Alle 20 e 30, ora italiana. Da dove sei? Di dove sei, scusa? Credo sia brasiliana, Mariana. Mariana, brasiliana, ok. L'aveva scritto, o mi confondo? Non lo so. Comunque, cominciamo alle 8 e mezza italiane. Quindi, sono le... L'una e mezza di pomeriggio, ad esempio, in Texas. Brasile. Quindi, in Brasile, sono quattro ore indietro. Brasile, infatti. Brasile, credo che siano le quattro e mezza quando cominciamo. Però... Eh, ragazzi, ma com'è l'orario per voi? Dal Brasile, ad esempio, dall'Argentina, insomma, dall'altri paesi. Quindi, funziona? Può andare? Allora, Bob dice, la mia connessione è troppo lenta per vincere. E Faustino dice, per me è il cervello che è troppo lento. Eh, ognuno ha un problema diverso. Ok, dai. Allora, aspetta un attimo che c'è... Ci sono sempre commenti, purtroppo, che dobbiamo bloccare. Aspetta, c'è una persona con qualche problema, che però YouTube ha bloccato il commento, quindi adesso... Sì, sì, perché ha utilizzato delle parole, appunto, inappropriate. Ma adesso aspetta che lo... Lo blocchiamo. Bene, bloccato. Va bene, bloccato. Ok. Ok. Arrivano tutti i commenti sull'orario. Ah, in Canada, alle 15.22. E andiamo avanti con la prossima, amici. 3, 2, 1... Vai! Modi di dire! In vino veritas, un bel modo di dire latino. Si usa tanto, ragazzi. Anche se è latino, devo dire la verità, si usa nella vita di ogni giorno. Soprattutto quando si beve in compagnia. Ma secondo me anche in altri paesi si usa, perché sono quelle espressioni latine... Che rimangono così, no? Che ormai sono nel gergo proprio comune, al di là del fatto che il tuo paese sia un paese che ha... con una lingua romanza. Allora, vediamo che cosa significa. Da ubriachi si dice la verità. Il vino è meglio dell'acqua. La verità sta sempre nel mezzo. Il vino rende intelligenti. Beh, Carlo, posso dire? Ho trovato delle opzioni alternative che possono ingannare, eh? Sono orgogliosa di queste opzioni. Sì, però non credo che tu abbia ingannato molti... No, molti no. ...tra i nostri amici, eh? Perché io vedo tante A arrivare. E avete ragione, perché la A è la risposta corretta. Eh sì. Quindi, in vino veritas, quando si è bevuto, secondo la storia... Secondo qualche tradizione strana, magari è vero, non lo so. La cultura antica anche. Sì, magari è anche una cosa scientifica. Voi ci credete? Fateci sapere in chat se credete che sia vero. Che quando si è un po' ubriachi, insomma un po' brilli, si tende a dire la verità. Quello che veramente si pensa è che da sobri non si avrebbe il coraggio di dire. Allora, il dito più veloce è quello di Mar! Complimenti! E tante volte già che arriva Mar, no? Sì, bravissima Mar! Quindi Mar, puoi festeggiare ancora! Dai, fai un brindisi con Mar! Allora, questa la dediciamo a Mar e ai suoi primi posti di questa sera. Bravissima! Intanto siamo in 140 spettatori, amici, quindi un app in la uso. Grazie a tutti noi! Perché siamo in tanti e... bene. Ora non voglio fare la guastafeste, ma ricordiamo a queste 140 persone di lasciare il mi piace. E continuiamo con la classifica. Mar al primo posto. Il secondo posto è di Martin M. Complimenti, Martin! Martin M, molto spesso in classifica questa sera. Sì, 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 da ammettere, bravo. Il terzo posto è di Virg R. Sì, complimenti, nuovo membro. Nuovo amico, nuovo membro della nostra fantastica comunità. Complimenti per il tuo terzo posto. Quarto posto, Mira Smart! Ciao Mira Smart, brava! Come stai, Mira? Non l'avevo ancora vista questa sera. Mi sa che non l'avevamo vista. Mira, come stai? Come va con George? Anche George sta guardando la diretta? State giocando insieme? Faccelo sapere. Che Mira Smart ci aveva mandato una donazione su PayPal. Grazie mille. PayPal, ragazzi, se volete, potete mandare una donazione sul nostro sito. Quinto posto, Anna C. Insieme a Evgeny Cerepov. Anche Evgeny, bravo. Risponde bene anche a Annette, Beate, Faustino, Jean-Pierre. Sì, leggiamo un po' i... Wow, ragazzi, quanti commenti, aspetta. Wow, ci siamo persi. Ci sono tanti commenti, proviamo a leggerne un po', perché siamo rimasti un attimo indietro. Allora, comincerei io da quello di Fernando, che dice... In piazza square veritas. Esatto, quando si guarda a piazza square ti dice la verità. Poi Jennifer Di Francesco dice è troppo vero questo, quindi è d'accordo. Poi in Acqua Sanitas dice Genevieve Letelier, bella, brava. Il critico passeggero dice comunque è davvero meraviglioso vedere così tanti stranieri parlare quasi perfettamente italiano. Siete tutti bravissimi. Quindi ragazzi, prendetevi il complimento del critico passeggero e portatelo a casa con tanto orgoglio. E' vero, e caro critico passeggero, ti volevo anche dire che secondo me tanti italiani partecipando al nostro test non vincerebbero. Per la velocità. Sulla velocità, chiaro, perché i nostri amici sono bravi e veloci. Sì. Poi, wow, quanti commenti, siamo un po' indietro, arriva anche in greco antico. Che non sappiamo leggerlo, però. Da Nonacherokei, Enoino Aleteia. Ah, sì, ha scritto anche la traduzione. Enoino Aleteia, credo. E poi Maria Esther Targhetta Rosa dice in Spagna diciamo Los niños y los borrachos dicen siempre la verdad. Los niños y los borrachos. Ce l'aveva detto anche Faustino, eh? Los niños y los borrachos dicen siempre la verdad. Bello, interessante. Poi preferisce la birra Christophe Cagliot. Ah, e Faustino ricorda a Mar che è il suo secondo primo posto, brava. Ok, ragazzi, scusateci se non abbiamo letto tutti i commenti, ma lo dobbiamo fare anche a favor di procedere con le domande. Perché spesso qualcuno ci ha anche criticato che ci perdiamo in chiacchiere. Però alla fine questo è anche il bello della diretta, no? Non solo che ci perdiamo in chiacchiere, ma hanno detto che non piace la premiazione perché la premiazione fa perdere tempo. Sì, è vero. Secondo me a uno non piace magari quando lo riguarda indifferita, ma a viverla dal vivo è un'esperienza bella. Diversa. Sì, perché hai anche la possibilità di classificarti sul podio. Quindi è un'esperienza diversa. Bene, Carlo, dai. Sì, volevo solo leggere l'ultimo, dai. Vera Friedrich che dice Il vino rende il dito più veloce. Dai, speriamo. Così avete più un vantaggio. Sì. Aspetta, Mirasmart ci dice Sto bene, grazie. No, George canta con un coro su Zoom. Vedi come le persone si sono ingegnate, Evolute anche e utilizzano la tecnologia per andare avanti con le proprie passioni. Bravo, sì. Ok, quindi mani sulla tastiera amici. Noi comunque siamo molto fortunati che abbiamo una passione che possiamo fare anche senza essere in presenza, no? Che possiamo coltivare. Coltivare, sì. Ok, vai con la prossima. 3, 2, 1... Ok. Probabilmente... Viaggiato di più se non ci fosse stata la pandemia. Probabilmente avremmo, avremmo, avessimo o saremmo. Allora, Alex dice La mia curiosità è sapere la ragione di ciascuno per imparare l'italiano. Ah, quindi vuole sapere perché avete scelto di imparare l'italiano. Sì. Beh, se avete voglia, ragazzi, potete scrivercelo qui nei commenti perché è effettivamente interessante. Noi, in realtà... C'è chi ha origini italiane, chi ha radici... Allora, caro Alex, se vai a guardare le storie che abbiamo fatto su YouTube, le storie che abbiamo raccontato su YouTube intervistando tanti dei nostri amici, troverai già la risposta da qualcuno. Quindi, Judith l'aveva detto, Dorotea, che abbiamo avuto, Agustina, Carla, tante persone. Anche Bob, Mazzo, tutti hanno spiegato perché vogliono imparare l'italiano. Tra l'altro, la domanda l'avevamo anche fatta a Claudio Fellini, a Faustino e a Aida Madern. Ah, sì, in una diretta. Che avevano partecipato a una diretta. Dovremmo riproporre quel format. Ma quanto tempo è passato? Ormai tanto, ormai tanto, perché era proprio più in inverno, se non sbaglio. Sì, avevamo fatto una diretta con Claudio, Faustino e Aida, tutti e tre insieme. Comunque, certo, tanti imparano l'italiano perché hanno origini italiane, ma tanti imparano l'italiano come appunto ci fa notare Annette o Mar, perché pensano che l'italiano sia la lingua più bella del mondo, oppure per pura passione. Sì, comunque c'è anche Aline's Travels che dice per lavoro e turismo. Aline's Travels che, se non sbaglio, è brasiliana. L'avevo guardata su Instagram perché ha una foto profilo che è molto accattivante di lei con la valigia e se non sbaglio anche lei lavora un po' con i luoghi, un po' travel blogger. Beh, viaggiare in Italia come lavoro, devo dire che è un bel lavoro. Con i viaggi lavora, sì. Bene, guardiamo, scopriamo la risposta. Allora, aspetta che mi sono perso nei tanti commenti, andiamola a cercare. Ah, la risposta prima, chiaramente. E la risposta corretta, amici, è la B. Avremmo viaggiato di più se non ci fosse stata la pandemia, però purtroppo non è potuto succedere. Esatto. Quindi, siccome non è successo, amici, stiamo utilizzando un periodo ipotetico del terzo tipo, che è il periodo ipotetico dell'impossibilità. Quindi, utilizziamo nella frase principale il condizionale passato. In questo caso, la principale arriva prima della subordinata. Quindi abbiamo avremmo viaggiato, che è un condizionale passato, che caratterizza la frase principale. Poi, nella subordinata, abbiamo invece il congiuntivo trapassato. Quindi, se non ci fosse stata, ok? Fosse stato, è un congiuntivo trapassato. Wow, Carlo, che spiegazione! Sì. Complimenti! Periodo ipotetico del terzo tipo, amici. Sali un po' con i commenti che volevo leggere. Allora, vediamo un po'. Il nostro tedesco non suona così bello, dice Martin M. Ah, quindi... Come l'italiano. Dice, impara l'italiano perché il tedesco... Ha una bella melodia, no? Eh. Poi, cosa ci dicono? Claudio dice, il prossimo dicembre mi piacerebbe fare un'altra diretta con Faustino e Aida. Ma anche prima! Ma scusa, fino a dicembre devi aspettare, Claudio. Forse perché passa un anno da quando... Ma noi siamo a fuoco, secondo me siamo anche un po' sfocati. Perché ci stai zoomando? Per vedere se siamo a fuoco. Ok, poi, Nilei dice, l'italiano è bello perché c'è concordanza nella lingua. Poi, Giacomo Peters dice... No, no, ho perso come... Allora, Jean-Pierre Burdà dice, mia nonna mi ha regalato per il mio quinto compleanno un viaggio in Italia. Era una vera magia per me. Ricordi, ricordi. Che bello. E Evgeni chiacchiera con Faustino e Faustino ci dà anche la classifica. Al primo posto dice Marino, ma credo sia Marin. Vediamo un po', aspetta, dai, cerchiamola anche noi. No, no, Giulia, è Marino. Ah, Marino? Marino Zazzera. Ah, un nuovo amico? Sì, benvenuto Marino, complimenti per il tuo primo posto. Ti classifichi primo, dito più veloce. Bravo. Bravo. Secondo posto, Jean-Louis Chébridon. Terzo posto, non hacker, ok. Quarto posto, Fernando. E al quinto posto, Fellini. Bravissimi, complimenti. Risponde bene anche Beate al sesto posto, Rosa, Marcello, Jean-Pierre Burdà, Evgeni, Ahmad Siufi e tanti altri, va bene. Allora, il critico passeggero. Ragazzi, ora devo andare, ma sappiate che siete veramente due grandi professionisti. Complimenti ad entrambi. Vi ho seguiti volentieri nonostante sia italiano. Buon proseguimento. Questo commento a me fa veramente piacere, soprattutto perché viene da un italiano e riconosce il nostro lavoro, no? Grazie mille il critico al critico passeggero e ricordati che sul nostro canale abbiamo anche tanti video interessanti per gli italiani, perché parliamo anche di dialetti e lingue regionali in Italia, quindi di sicuro troverai interessante ad esempio il video che abbiamo fatto sul napoletano o sui dialetti in generale con il giornalista Giovanni Polli. Annette dice il mio primo ragazzo era italiano, ma avevamo solo dieci anni. Allora, non ha che ero ok, ha abbastanza fretta, devo dire. Sì, ci sta mettendo un po' di fretta, quindi... Dice di andare avanti. E noi lo ascoltiamo, dai, non ha che ero ok, adesso andiamo avanti. Ciao, sono di Puerto Rico, dice Lourdes Torres. Benvenuta, benvenuta, benvenida... Benven... sì, è una femmina. Una femmina, ok. Cosa... No, leggevo un po' i commenti, però va bene. Sono tanti commenti, amici. Scusatemi se abbiamo... Scusateci se abbiamo saltato qualche commento, non ce ne vogliate. Bene, Carlo, non facciamo arrabbiare qui a... Vai. Questo film... È... Da una storia vera. Non facciamo arrabbiare, dicevi... Hacker ok. Perché... Cosa? Ah, perché deve andare a dormire, non hacker ok, dice. Infatti, vuole avere più domande possibili. Questo film è riconosciuto, è tratto, è ambientato, è visto. Vedo tante B, alcune D, una C, una A... Ah, tutte sono state dette. Bene. Allora, dai, diamo ancora qualche secondo, così che tutti abbiano la possibilità di rispondere. Tra una chiacchiera e l'altra... Dobbiamo... Carlo, siamo già ad un'ora di diretta. E allora, ad un'ora di diretta bisogna ricordare ulteriormente che per chi volesse supportare economicamente il nostro canale, in modo che noi si possa comprare nuova attrezzatura, viaggiare di più e fare video più belli come quello che avete visto delle nonne, e magari, perché no, anche espandere il nostro team e magari lavorare insieme a qualche ragazzo che ci monta i video. Per chi volesse supportare economicamente, si può fare attraverso un super sticker o una super chat direttamente nella chat qui su YouTube. Dovevo dirlo, per forza Giulia. Sì, questo YouTube oppure, come dicevo prima, anche su PayPal si può fare, sul nostro sito dove noi offriamo gratuitamente i nostri ebook. È vero. Da scaricare. Allora, diamo la risposta. Questo film è tratto da una storia vera. Tratto da una storia vera significa proprio che è stato, la storia è stata scritta su, basandosi su una storia vera. È proprio così Giulia. E il dito più veloce è quello di Marino Zazzerac. Bravo Marino, che si classifica per la seconda volta al primo posto. Sì, ma adesso voglio sapere però Marino, sei italiano? Hai un nome italiano. Il nome italiano, come faceva notare prima Claudio? Sì. Però magari non è italiano. Non lo so. Non lo so. Al secondo posto c'è Fernando Contreras de Madrid. Complimenti. Grandissimo. E arriva la donazione da Annette. Da 5 euro. Grazie per essere così bravi. Insegnanti, ed è gol, 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 ed è gol. Grazie Annette, grazie mille. Allora, Marino, primo posto. Secondo posto, Fernando. Terzo posto, Aida Madern. Quarto posto, Claudio Fellini. Quinto posto, Birg R. E Martin M. Al sesto posto, mi piace tantissimo che Faustino ha cominciato ad includere anche il sesto posto. Ma Giulia, di questo passo includeremo tutti, tutta la classifica. Tra un po' arriveremo fino al decimo. Ed è gol, grazie Annette. È giusto? Eh, chiedi alla donette. O von der hearts. Io non sono la persona giusta. Ok. Grazie mille dal profondo del nostro cuore. Se non avessi imparato l'italiano, non avrei conosciuto Piazza Cuore. È il suo dream team. Che peccato, dice Jean-Louis Chevredon. Quindi siamo molto contenti che ci hai conosciuto. Lucas, secondo me Marino è argentino. Può essere. Potrebbe essere, certo. Noi non vogliamo insinuare assolutamente nulla. Tratto è sinonimo di tirato, chiede Fellini. No. No. No, allora, Claudio... Marino è del Veneto. Ma Marino... Claudio, no. No, non è proprio un sinonimo. Magari in rare occasioni potrebbe... In questo caso qua, no. In rare occasioni potrebbe esserlo, però non direi. Marino, facci sapere da dove vieni, di dove sei. Mani sulla tastiera, amici. E proseguiamo. 3, 2, 1, vai. Contrario di tralasciare. Allora, sorvolare. Considerare, escludere o trascurare. Ragazzi, contrario. Ah, Lucas è Veneto. Lucas comunque prima ci chiedeva se insegniamo italiano. Allora, Lucas, sul nostro canale l'argomento principale è la lingua italiana. Non solo però insegniamo l'italiano. Parliamo anche di lingue regionali e dialetti e diffondiamo storie di successo di persone che grazie all'italiano hanno cambiato la propria vita. Quindi sono storie molto interessanti anche per gli italiani stessi. Non solo per chi impara l'italiano. Certo, per chi impara l'italiano è una motivazione in più, è una spinta a proseguire questo percorso. Ma noi vogliamo rendere i nostri video piacevoli per tutti. Piacevoli anche per gli italiani. Sì. Comunque, sinonimo... no, contrario di tralasciare. Tralasciamo questi particolari, tralasciamo questi dettagli inutili. Che cosa significa? Anzi, che cosa non significa? Non significa considerare. Esatto, significa appunto sorvolare, scludere, trascurare. Mettere da parte, no? Quindi il contrario chiaramente è considerare, includere, sottolineare, qualcosa del genere. Sono tutti contrari questi. Lucas, sì sì, vi seguo da un po'. Secondo me siete il miglior canale della storia per la lingua italiana. Wow! Grazie mille Lucas, che belle parole. Ci fa davvero tanto piacere. Grazie, grazie, grazie. Ah, il Fellini dice piacere. Luca, il Veneto è la regione dei miei nonni. Ah, vedi. Ok, la classifica? La classifica, Carlo, non è arrivata. Accipicchia. Va bene, l'andiamo a leggere noi. Allora, la classifica vede al primo posto Claudio Fellini. Bravo! Secondo posto, non hacker ok. Non hacker ok. Beate, sed la ceca al terzo posto. Quarto posto. Maria. Madonna, scusatemi, che figura! È la birra, scusatemi. Vai, vai. Maria Esther, targhetta rosa. E al quinto posto, Fernando. Tralasciamo questo momento. Ok, e risponde bene anche Aida, Madern. Guarda, il video proprio cade, il verbo cade a pennello, Carlo. Risponde bene Marine Bazzoli, anche Rosa Rinaromi, Jennifer Di Francesco, Ana A. Allora. Allora. Ah, cevicchia. Va bene, andiamo avanti con la prossima. Mani sulla tastiera. Succede tutto in diretta. Vai. Il bello della diretta, Torchi, Taui, mi farà bene. Allora, ragazzi, vai con le preposizioni. Io vengo in Canada, più precisamente sono in Vancouver. Io vengo dalla Canada, di Canada o dal Canada. Sono del Vancouver, di Vancouver, del o di. Queste due opzioni. Carlo, ma nel frattempo si può sapere quante domande abbiamo fatto fino ad ora? Per fare il punto della situazione. Mi viene difficile, Giulia, risponderti. Ah. Non saprei, sinceramente. Ah, ok. Non riesco a guardarlo. Va bene. Comunque. Ragazzi, ricordiamoci che venire viene seguito dalla preposizione da. Venire da un paese. Quindi io vengo da, in questo caso è il Canada, e quindi da più il, dal Canada. E poi si dice essere di una città. Quindi sono di Vancouver. È proprio così, amici. Tanti amici ci scrivono Io vengo di America. Io vengo dall'America. Oppure ci scrivono Io sono da Milano. Io sono di Milano. Oppure io sono da Buenos Aires. Io vengo da... Sorry, io sono di Buenos Aires. Sono di Buenos Aires o vengo da Buenos Aires. Allora, Faustino ci ha già dato la classifica. Grazie Faustino per il tuo lavoro. Grazie mille. Al primo posto Jean-Louis Chebridon. Complimentoni. Secondo posto Fernando. Terzo posto Aida. Quarto posto Jean-Pierre Burda. E al quinto posto Claudio Fellini. E Mar non aveva la tastiera pronta. Fa niente, ti potrai rifare al prossimo giro. Allora, dice Giacomo Peters. Il, il Canada. L'italiano è proprio un enigma, come dici tu. In questo caso Canada, anche se finisce con la A, è maschile. Il Canada. Allora, Jennifer Di Francesco. Io vengo dal Canada. Più precisamente sono di... Kitchener. Kitchener. Ok. Ontario. Ontario. Però sono cresciuta vicino alle cascate del Niagara. Che bello. Cioè, per noi sembra un sogno. Per noi è veramente... Un altro mondo. Proprio quei posti che dici nella vita... Devi farlo almeno una volta. Nella vita lo voglio visitare. Sì. Le cascate del Niagara. Cioè, fantastico. Che se non sbaglio, le cascate del Niagara viene trattato nel film, nel cartone Up. L'hai visto? No. Di quel signore anziano che vola con la casa, con i palloncini. Ah. E va a visitare le cascate del Niagara, proprio con la casa che vola. Ok. Mi è venuto in mente. Va bene. Allora. Volevo leggere... Ah, volevo salutare Catherine. Catherine Baum. Ciao, Catherine. Che è una nostra cara amica. Che si collega sempre tardi. Quasi a fine diretta. Però poi... Impegnata. Però ci dice che poi va... E arriva la donazione di Michele. De gole, de gole, de gole, de gole, de gole. Anche Michele è sempre presente. Donazioni ricorrenti. Non sappiamo più come ringraziarti. Grazie mille. Grazie mille, Michele. E Lucas dice... Sapevate che in Brasile ci sono persone che parlano come prima lingua d'italiano? La lingua è un derivato del dialetto veneto. Si chiama Talian. Talian e si parla prevalentemente nel sud-est del paese. Interessantissimo. Fantastico, Lucas. Ci piacciono queste informazioni. Ci piacciono da morire. E Claudio dice... Sì, Lucas. Il Veneto è qua in Brasile. E Michele dice... Scusate ragazzi, oggi non sono a casa. Quindi pur non essendo a casa, Michele partecipa e ha pure trovato il tempo e la voglia di farci una donazione. Sì. Fantastico. Si sta scusando, Michele, per non essere primo fisso in classifica. Sì. Perché sennò sarebbe una gara tosta. Guarda quello che ci dice Jean-Louis Chebridon. Allora, un giro per tutto il mondo seduto sul sofà. E questa è la magia di Piazza Square martedì sera. Fantastico. Che bello. A noi piace tantissimo. E si è collegato anche Raff, che se non sbaglio è italiano. Sì, è italiano Raff, è italiano. È, infatti. Abinci, dai. Mani sulla tastiera. Andiamo avanti con la prossima. Vai. Grazie Fernando che ci saluta. Fernando ci saluta. Ciao Fernandone. Grazie. Modi di dire. Dare nell'occhio. Che cosa significa dare nell'occhio? Significa avere pazienza, essere perspicaci, fare a botte o attirare l'attenzione. Dare nell'occhio si utilizza spesso. Dopo vi faccio anche un esempio, ma se lo dico ora poi do un indizio troppo grande. Quindi, Fernando Contreras, io ho lasciato un cuore, perché è veramente un grande. Sì, anche i commenti che ci lascia sono molto apprezzati. Ok, dai. Vai, sto lavorando mentre ascolto. È troppo difficile, dice Marino Zazzera, che non ci ha ancora detto di dov'è. Esatto, di dove sei Marino. Cioè, il mistero di questa diretta è rimasto ancora aperto, irrisolto. Sì. Dobbiamo chiamare un detective qui. Vai, dare nell'occhio significa attirare l'attenzione, amici. Ad esempio, mi raccomando, se visiti questa città, non portarti la macchina fotografica per non dare nell'occhio, perché altrimenti attiri l'attenzione e c'è più probabilità che qualcuno te la rubi nel caso. È chiaro, è chiaramente così. Brava Giulia, ottimo esempio. Ok, vai. Allora, mi piace molto imparare con voi, dice Ismael Antonio Torrijo Caballero. Grazie mille, speriamo tutti voi abbiate già schiacciato, distrutto il tasto mi piace. E Alex ci lascia un altro commento, dice a Rio de Janeiro non c'è una scuola bilingue d'italiano, è un desiderio della comunità italiana. E la classifica è arrivata, è arrivata, caro non hacker, ok. Ce la dà Faustino e vede Fernando al primo posto, quindi grande Fernando. Che se ne è andato, però. Allora, al secondo posto c'è Claudio Fellini, terzo posto Beate Sedlacek, quarto posto c'è Enzcae, Enzcae. Spero di aver risposto, di aver pronunciato bene il nome, di Enzcae Aknad. Magari... E al quinto posto c'è... E al quinto posto c'è... E al quinto posto dov'è? C'è Erzebet! Erzebet, ciao Erzebet, la Bunch, come stai? Buonasera a tutti, sono arrivata in ritardo. Non fa niente, non fa niente, non ti preoccupare. Grandissima Erzebet, eh, anche lei è brava, si collega spesso. Milagro dice, mi piace molto questo canale, quindi grazie mille. Milagro minuti. Persephone dice, dovete assumere Faustino. Sì, sì, ma... Sarebbe veramente... Sì, sì. Ah, Marino, è arrivata la risposta di Marino che tutti aspettavamo, amici. Sono americano, Pennsylvania, Pennsylvania. Della Pennsylvania, sì, quindi di Philadelphia, Pennsylvania, credo. Sì. Ok, va bene. Va bene, dai, va bene. E non hacker ok, buonanotte, buonanotte non hacker ok. Ma noi continuiamo. Continuiamo, dai, facciamone un'altra, io ho bisogno di una pausa, vai. Carlo si prende la pausa, ma noi no, ragazzi. Noi continuiamo e vediamo un po' la domanda. Se mi fossi impegnato di più, probabilmente un lavoro. Quindi, se io mi fossi impegnato di più prima, quindi nel passato, adesso, quindi nel presente, un lavoro. Vediamo le risposte. Per svelare la risposta, aspetteremo Carlo, ma nel frattempo siete tutti invitati a scrivere la risposta. E Mighe dice, per favore, salutate il mio cuginetto Efraim. Sta seguendo la diretta con me. Ciao, il cugino di Mighe Efraim. Grazie mille per seguire la diretta. Speriamo ti piaccia. Sarebbe bellissimo averti qui con noi ogni martedì sera. Mighe, devi convincere tuo cugino a partecipare ogni settimana. Per noi è sempre un piacere avere nuove persone. Grazie mille! Poi, vediamo un po', vediamo un po'. Arrivano tante risposte, principalmente vedo la risposta A, vedo anche qualche B e qualche C. Raff dice, ragazzi, ora vi saluto perché voglio vedere cosa pensano le nonne italiane, nord contro sud. Raff, ottima decisione! Vai a vedere il video delle nonne e se hai voglia, lasciaci anche un commento se ti è piaciuto il video e che emozioni ti ha suscitato. E Lucas dice, in Erasmus ho conosciuto persone provenienti da realtà meravigliose, un'amica peruviana che ha fatto la scuola italiana di Lima e una brasiliana con il cognome Veneto e i nonni che parlavano italian. Ma dai, che spettacolo! Lucas ha così tante cose da raccontare! Sì, ma Lucas... Fai un video con noi! Dai, ti facciamo chiacchierare un po'? Scrivici su Instagram! Esatto, chi volesse essere intervistato, che ha storie da raccontare, parla italiano bene, può scriverci su Instagram. Aspetta Carlo, io ho invitato il cugino di Miguel a partecipare alle nostre dirette ogni martedì, ma ho appena scoperto che ha solo due anni! Ma Miguel ha fatto bene, tutti dovete fare così, amici, dovete condividere i video di Piazza Square con cugini di due anni! Ma è una cosa troppo dolce! Con cugini di 90 anni, con adulti, bambini, anziani! Noi siamo per tutti! E Milagro dice grazie mille a voi perché sono molto importanti poter parlare con voi, è molto importante poter parlare con voi! Va bene, scopriamo questo periodo ipotetico di quale tipo si tratta! La risposta corretta è la B! Se mi fossi impegnato di più, probabilmente avrei un lavoro! Quindi abbiamo qui un periodo ipotetico misto! Esatto, perché come dicevo prima, una cosa riguarda il passato, una cosa riguarda il presente! Sì, abbiamo un'ipotesi nel passato che non si è verificata, ma se si fosse verificata avrebbe avuto una conseguenza... Diversa, sul presente! Avrebbe avuto una conseguenza nel presente, chiaramente! Quindi i tempi verbali che utilizziamo sono il congiuntivo trapassato nella subordinata, quindi congiuntivo trapassato se mi fossi impegnato, ok? Mentre nella principale utilizziamo un condizionale presente, avrei, semplicemente avrei! Carlo, c'è un commento di Fellini che dice Ma com'è possibile che ogni martedì sera sono ubriaco, Carlo? Me lo puoi spiegare? Che cosa stai insinuando Fellini? Che forse è colpa di Carlo con tutti questi brindisi? Ah, perché Claudio si guarda le dirette mentre beve la birra! Beh, certo, sì! Grande Claudio, grande Claudio! E poi c'era un commento... Allora, Carlos De Jesus Verdugo Torres Hey, what's up? All good! All good, man! What about you? E Carla Castillo dice Mio figlio già sa che sto imparando l'italiano e lui ha sette anni! Che bello! Fantastico! E Lucas dice Sta parlando con Talk Italian Guidarone Talk Italian Guidarone dice Questa cosa dell'italiano è la prima volta che la sento Molto interessante E Lucas dice A me queste cose hanno cambiato la vita nel senso che mi fanno... che mi hanno fatto capire che tutto il mondo è paese, una cosa straordinaria, quasi inspiegabile È verissimo! Hai ragione Lucas, tutto il mondo è paese, i confini non esistono, sono stati inventati dall'uomo, i confini sono una cosa che non esiste Ma Lucas hai veramente tantissime cose bellissime da raccontare, quindi io ribadisco se hai voglia contattaci pure Su Instagram è vero, raccontaci qualcosa su Instagram o per email caro Lucas Se hai voglia di apparire in uno dei nostri video ovviamente Ma anche se tu non hai... anche se non hai voglia di apparire scrivici comunque perché magari ci dai delle idee interessanti per argomenti da trattare sul canale Allora... Ti ho interrotto Giulia? Dice Pitfly Può succedere, magari così, in diretta Non lo so Claudio, mi sono appena ricordato di Otto e di Mario Eh sì, ma tanto tra poco andiamo a Milano, quindi... Sì, magari facciamo una storia su Instagram con Otto domani Sì, Ottolino Domani sera andiamo a Milano, domani andiamo in Italia Ok, allora, vediamo un po' la classifica che ci aveva dato Faustino Faustino Allora, dov'è la classifica Giulia? L'ho persa, la vedi? Eccola, l'ho vista Ah sì Al primo posto c'è... Mighè! Salutiamo ancora una volta il cugino di Mighè, Efraim Come si chiama il cugino di Mighè? Se non sbaglio a pronunciarlo, Efraim Quindi salutiamo il cuginetto di Mighè Secondo posto per Beate Sedlacek, che questa sera è carica da Vienna Terzo posto per Claudio Fellini, amico storico del nostro canale Lui è... Sempre presente Lui è... siamo nati insieme a Claudio Fellini noi E al terzo posto... Quarto posto c'è N-Sky Mighè, molto bene E al quinto posto c'è Fuad Bene Grande Fuad, quinto posto per te Allora, preparatevi al brutto tempo ragazzi Portatevi un ombrello e tutto il giorno che sta diluviando Dice Talk Italian with Aronne Che brutta notizia Anche qui oggi ha piovuto Allora, Nilai ha lavorato a Milano nel 2013 Ma guarda un po' E quindi hai imparato un po' d'italiano lavorando a Milano? E c'è una domanda anche da... Ah, Mariana dice Sono quasi entrata in classifica questa volta Dai Mariana, non ti buttare giù Non ti preoccupare Mai mollare Ehm, va bene Poi Ci sono alcuni commenti che non ho capito Ma non fa niente Dai, andiamo avanti Andiamo avanti amici, dai Mani sulla tastiera M7 Quante ne facciamo ancora? Siamo già un'ora e mezza Tra una cosa e l'altra sono le 10 in punto E finché non finiscono Sai che non so quante ne abbiamo Non si può vedere in qualche modo? Un'ora e mezza di diretta Dice Carla Castiglio con gli occhi a cuore Bene, bene, bene amici Noi siamo carichi per continuare Vai Dove siete ora? Dice Luca Bonuccelli Siamo in Austria Mani sulla tastiera amici 3 2 1 Vai Devi smetter Di prender Con me No, scusa, non devi Dovete Voi Ok Quindi Dovete smetterla Dovete smetterci Dovete smettere Di prendervela Di prendersela Di prendercela Allora Salutiamo Patrick Pender Hello from Ireland Ciao Patrick What's the crack? L'unica cosa che sai in Irish No, ne sapevo anche un'altra Era what's the crack? Crack is mighty Ah, è vero Così si dice, no? Così dite in Irlanda Caro Come si chiama il nostro amico? Patrick 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 è che è un nome abbastanza irlandese Tipo St. Patrick's Day Comunque Nilai sta imparando l'italiano da tre anni Fantastica Ci chiedono che cosa vuol dire comunque vada Chi l'ha scritto? Milagro Comunque vada significa Se finisce bene o se finisce male In qualsiasi modo vada Non fa niente Ma secondo me l'ha preso dal video con le nonne Che la va di ben, che la va di mal Sempre allegri Ah, può essere Che la va di ben Che la va di mal Sempre allegri Mai passione Viva l'ipo Bon Tun 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 Quindi che vada bene o che vada male No? Sì, che vada bene o che vada male Bisogna essere sempre allegri E mai passione E mai passione Stare sempre con Mia nonna dice stare sempre contenti e felici Viva l'ipo Bon Se non sapete quello che stiamo dicendo E vi sembriamo due pazzi Guardate il video che abbiamo fatto con le nonne Che è uscito domenica E scoprirete di cosa si tratta Ok, Carlo, dai Bando alle ciance Dovete smetterla di prendervela Con me Esatto, quindi due verbi pronominali Smetterla, prendersela E poi lo coniudiamo Quindi voi dovete smetterla di prendervela Con chi? Con qualsiasi persona È chiaro Il video delle nonne è bellissimo Dice Bob Grande Bob Learn Italian con l'americano Grazie Mariana dice Provo a rispondere in fretta Ma non ce la faccio a pensare È chiaro Sono veloci Mariana, allora Noi abbiamo tanti amici Che partecipano ogni martedì Da tanto tempo Sono più allenati forse No, ma volevo dire anche un'altra cosa Ci sono tanti amici Che in realtà Non giocano veramente Per arrivare ai primi Ma giocano solo per imparare Cioè tu puoi interpretare il nostro testo un po' come vuoi No? Se vuoi la competizione è chiaro che sei il benvenuto o la benvenuta Però l'importante è imparare Quindi puoi anche rispondere lentamente E prendere il tuo tempo Esatto Cosa volevo dire? Volevo rispondere ad Annette Non capisco questa frase Allora Dovete smetterla Significa You have to stop Prendervela Significa To get mad With me Ok? Quindi non dovete più Arrabbiarvi con me Esatto Ok Spero sia chiaro Annette Nel caso fammelo sapere Allora Vediamo un po' La classifica Arriva da Faustino Grazie Faustino ragazzi Grazie mille a Faustino Possiamo scrivere Possiamo scrivere Tutti Siamo 112 Tutti Grazie Faustino Grazie Faustino Scriviamolo tutti in chat amici Perché Faustino Non dobbiamo sottovalutare Il suo lavoro Per noi È un aiuto incredibile Che Faustino Ci scriva La classifica Ogni volta In modo che Non si debba andare Su a cercare Chi ha risposto Per primo o secondo Grazie Faustino E nel frattempo Mi raccomando Ricordatevi anche Di lasciare Il mi piace ragazzi Che secondo me Qualcuno ancora Non l'ha messo Guarda Guarda che calore Vedi Grazie Faustino Grazie Faustino Grazie Faustino Bravi Allora Faustino Leggiamo la classifica Secondo Faustino Al primo posto Jean-Louis Chevridon Bravo Complimenti Secondo posto Beate Sedlacek Molto bene Terzo posto C'è Paul E non so chi sia Quindi lo vado a cercare Sono curioso di sapere Chi sia Paul Vediamo Paul 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 L Non lo so Comunque Paul È un nuovo amico Credo che sia nuovo Sul nostro canale Benvenuto Paul E poi al quarto posto C'è Mar Persephone Underworld E al quinto posto Enzkae 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 Già Spesso L'ho visto Molte volte Sul podio Comunque Caterin ricorda Che si gioca Per imparare E per ridere E leggi Quanti commenti Per Faustino Allora Luca Bonuccelli Virge R Jacopo Maria Letizia Gardu Marcello Rob Sylvain Pete Paul Ancora Miran Smart Beate Catherine Anna C Vera Friedrich Vera Friedrich Quindi tanti 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 Milagro Tantissimi E come dice Mar Non solo per scrivere la classifica Ma anche per incoraggiare Faustino Fellini dice Non so più vivere Senza Senza Faustino Ormai sono diventati Una cosa unica Allora Faustino Vuole una parte Delle donazioni Dice Esteban Speriamo di incontrare Faustino presto E di offrirgli una pizza Almeno una pizza Sì dai Va bene Comunque Abbiamo Sei contento Faustino Dici un po' Sei contento Di vedere Tutto questo calore Speriamo di sì Dai Speriamo di non aver fatto Imbarazzare Faustino Ragazzi Giù settimana fa Ho parlato in italiano Per la prima volta Con Claudio e Faustino Con Claudio e Faustino Wow Com'è stato? Buonasera Rildete Porto Salve sono brasiliana Benvenuta Ciao Vai con la prossima 3 2 1 Vai Modi di dire Se vuol dire sinembargo Sinembargo Tuttavia L'ha scritto male Ok Sono molto lieto Dice Allora Farsene un baffo Me ne faccio un baffo Che cosa significa? Provare totale differenza Farsi crescere i baffi Come Carlo Legarsela al dito O fare finta di niente Patrick dice Piazza Square Is a great place For learning Italian Thank you so much Thank you dude Thank you mate Così dicono in Great Britain No? Ma scusami Ho anche pal Thank you pal Irlanda non è Great Britain Scusami Patrick È vero Nostri amici irlandesi Ragazzi l'Irlanda è uno dei paesi migliori d'Europa Ma non ci siamo mai stati però Sì vabbè ma la tassazione è tra le più basse in tutta Europa L'economia va bene Funziona tutto C'è l'euro Che cosa significa farsene un baffo? C'è la Guinness anche in Irlanda Quello è vero Va bene dai Che dici Giulia andiamo avanti Me ne faccio un baffo Cosa significa Carlo? Facci vedere la risposta La risposta è Me ne frego Me ne frego Non mi interessa Provo totale indifferenza Sì sì E questo vuol dire Me ne faccio un baffo Ad esempio Lo sai che Carlo ti ha detto una bugia? Me ne faccio un baffo Non mi interessa No? Sì È proprio così Hai guardato quante domande avevamo fatto? Sì ho dato una controllatina veloce Quante erano? Eh no Non so quante ne abbiamo fatte Ma so che ne abbiamo ancora tante Dai diamoci un taglio Ma no Giulia dai Allora No perché altro perché lavoriamo domani Eh va bene Allora Oh no Oh no Già è arrivato Oh no Perché? Oh no Oh no Forse perché pensavano stessimo chiudendo Quale bugia? Che bugia? No Ho fatto un esempio Che tu dicevi una bugia E io dicevo me ne faccio un baffo Non mi interessa Ah ok Che mi hai detto una bugia Mariana dice Devo andarmene è stato un piacere Ora comincio a studiare con voi Brava Mariana Miglior decisione che tu potessi prendere Siamo riusciti a convincerla Brava Abbiamo convinto Mariana A iscriversi al canale Piazza Square Italiano Il miglior canale di italiano Che ci sia su YouTube Non te ne pentirai Ok Allora Fellini Faustino merita Tutti ormai Carlo Tutti i nostri onori Ormai lo conosco E so che aiuta tante persone Con pazienza e passione Sono un suo fan E anche noi siamo Dei suoi fan Anche noi siamo Dei fan di Faustino Fan numero uno Ragazzi dai Faustino Eccola la classifica Eccola Allora Per chi volesse Arrivare primo In classifica Per chi volesse vincere Il dito più veloce Deve corrompere Faustino Potete corrompere Faustino No Lui è molto Fiscale Onesto E preciso Sì Il dito più veloce Amici È tutto Di Beate Sedlacek Ero così contento Che stavo facendo volare il microfono Comunque complimenti Bravissima Beate Brava Beate Io sono contento di vedere Beate Vincere Secondo posto Maria Esther Targhietta Rosa Bravissima Terzo posto Claudio Fellini Complimenti Al quarto posto Jacopo E al quinto c'è Marino 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 Che sta anche lavorando allo stesso tempo Se non mi sbaglio Allora Ok Fernando è tornato Fernando è tornato Quindi amici Si salvi chi può adesso Perché Fernando è forte Fernando gioca Per il dito più veloce E anche Milagro Abbiamo convinto anche Milagro A studiare con noi D'ora in poi Siamo contentissimi Ehi Raffa appena finito di vedere il video delle nonne Ha pure lasciato un commento Com'è Raff? Ti è piaciuto? Facciai sapere anche qui in diretta Faccelo sapere solo se ti è piaciuto Perché Nel caso posso non dire Se non ti è piaciuto Non dire niente Ok Scherziamo Dai Ma come fa a non piacere Carlo? Due volte al primo posto Sono contentissima Dice Beate Grandissima Allora E Claudio ci dice Giustamente Infatti ho detto 1600 Magari 139 mi piace Mi aspettavo 1600 No Claudio Noi ci aspettiamo 1600 mi piace Giustamente Perché no? Nelio Rodriguez è arrivato adesso Va bene Va bene Ciao Nelio Ciao Nelio Benvenuto No Nelio non era già prima Non lo so Comunque Faustino Da dove vieni? Chiede Luca Se Faustino ha una grande storia Di viaggi internazionali Faustino è messicano Ma vive in America Sì E ha viaggiato tanto Ha anche un figlio che vive in Austria Molto internazionali Faustino Nostro amico Vai Avanti con la prossima 3 3 2 1 Vai Sinonimi e contrari Sinonimo di prestante Ad esempio una macchina prestante No? Sì Una persona prestante Atletico Energetico Debole Forte Vediamo un po' Allora Cominciano ad arrivare le prime risposte Laila Appena arrivata Non ho ricevuto la notifica Laila ci dice Eh lo so Cara Laila Caro Laila Cara Forse bisogna attivare la campanella Per ricevere la notifica Se siete iscritti al nostro canale E ovviamente dovete esserlo Dovete attivare la campanellina Per essere sicuri di ricevere sempre le notifiche Esatto Proprio dove c'è il tasto iscriviti Vicino c'è una campana E voi dovete premere In modo da selezionare tutte le notifiche Così quando noi siamo in diretta Quando pubblichiamo un nuovo video Sarete i primi ad essere informati Eh Allora Lucas dice Grande Faustino Ho qualche amico lì in Messico Ma Lucas magari Faustino li conosce Del resto in Messico Sono in poche persone Salutiamo anche Maria Alejandra Peretto Sono arrivata un po' tardi E per la prima volta Quindi benvenuta Benvenuta Maria Guarda Noi abbiamo già fatto un'ora e quaranta di diretta Ma abbiamo ancora delle domande per voi Questa sera arriveremo a due ore Ormai Però una cosa e l'altra Arriviamo a due ore sì Quindi puoi giocare ancora venti minuti con noi Cara Maria L'unica cosa che è obbligatoria per partecipare È lasciare mi piace È iscriversi al canale Ovviamente Bisogna iscriversi Allora Mar dice Che è iscritta Ma non ha ricevuto la notifica Mar tu hai anche attivato la campanella Con tutte le notifiche Va bene Mettiamo Comunque Raf dice Che il video del nonno è bellissimo Ah che bello E che abbiamo delle nonne speciali È vero È vero È vero Ragazzi Il sinonimo di prestante è energetico Ma Sinceramente No aspetta Il Sinceramente Anche atletico è forte Mi sa che c'è Allora C'è un errore Era contrario Di prestante Ve la spieghiamo Allora C'è un errore Allora Ok Scusate ragazzi C'è un errore Volevamo chiedervi il contrario E il contrario sarebbe stato debole Sinonimo Ovviamente È anche atletico È un sinonimo di prestante Energetico Giustamente Ma anche forte Quindi ragazzi Attenzione Attenzione Voi che siete collegati Se Avete avuto difficoltà a rispondere È giusto che voi abbiate avuto difficoltà Era per vedere se Se eravate attenti ragazzi C'è tutto fatto apposta Perché la risposta corretta In questo caso È la A La B E anche la D Eh vabbè Ragazzi Facciamo che non premiamo Ci dovete Perché era solo un clanello Ci dovete perdonare Ma Creando Mille mila domande Ogni tanto Sfuggire Ci sfugge Vabbè Ma io comunque voglio premiare E ma cosa premi Carlo Non si sa cosa premiare Tutte tranne la C Quindi Adesso Questa classifica È una classifica speciale Amici Amici Questa classifica È la più speciale Della serata Al primo posto Vediamo Jean-Louis Che risponde B Energetico Bravo Annette al secondo posto Annette ha vinto il secondo posto Bravo Annette Dice forte Giusto Terzo posto Esteban Neme Con forte Quarto posto Mar Con energetico E Purtroppo Non possiamo premiare Mira O Michelsicole Sitole Però possiamo premiare Teacher Elvira Che dice energetico Che dice energetico E tanti altri Anche Enscae E Diana Ok Abbiamo fatto chiarezza Su questo amici Molto simpatico Che anche voi Fate degli errori Dice Annette Dai Può succedere Ragazzi Questa serata È la serata Delle gaff Ci dice Talk Italian With a Ron Ma dai Abbiamo fatto Quale è stata Cosa Quale altra gaffa Abbiamo fatto Vabbè Quando ho bevuto la birra La serata delle gaff Insomma Sì Purtroppo In diretta Ce ne sono diverse Va bene Ragazzi Noi ce le dimentichiamo Apposta Non ricordare Comunque Quello che farò adesso Quando chiudiamo La diretta Questa La correggiamo E poi la carichiamo Sul nostro sito Corretta Quindi non vi preoccupate Poi È anche giusto Che controlliamo Le domande Insieme ai nostri amici Vai con la prossima Succede Dai 3 2 1 Vai Possiamo andare Ovunque tu Vuoi Vorresti Volessi Voglia Allora Intanto Faustino Chiede Come si chiama L'amico di Lucas E di dov'è Se non sbaglio Faustino È di Sonora Se non sbaglio Però non vorrei dire Una cosa Inesatta E intanto Ci arrivano Foto di Otto Devo vedere una cosa Guardate qua Otto Che dorme Vediamo Aspetta Eh non lo mette a fuoco Perché Che dolce Come non lo mette a fuoco Beh non lo so Eh va bene dai ragazzo Vediamolo Non mette a fuoco Che dolce Comunque c'è Otto Che sta dormendo Allora Allora D D D A C B La risposta corretta È quella Che Ha Il congiuntivo Presente Esatto Con questa espressione Si utilizza Il congiuntivo Ovunque Tu Voglia E Questo Ah vedi avevo Mi ricordavo bene Che Faustino E di Sonora In Messico Allora Questo caso Del ovunque tu voglia È spiegato Nel dettaglio Nel mio video Tutto quello che devi sapere Sul congiuntivo In quel video Vi racconto Tutti i casi In cui il congiuntivo È il modo verbale Da utilizzare In italiano Questo è uno dei casi Anzi questo Ovunque tu voglia Ovviamente in quel video C'è anche un PDF Con le spiegazioni Da poter scaricare Gratuitamente Caterine chiede Se Otto È un cane Sì Otto È il cagnolino Di Carlo In realtà Ma È troppo dolce Gli amici di Luca Sono Di Guadalajara In Jalisco Guadalajara Jalisco Ah Ok Allora Claudio chiede A Faustino Di mettere il sesto posto Vediamo Pari merito Pari merito Ma sta arrivando La classifica Da Faustino Secondo me O la andiamo a cercare Noi Giulia Secondo me sta arrivando Eccola 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 Primo posto EnSkae Secondo posto Mar Persephone Underworld Terzo posto Beate Sedlacek Brava Beate Quarto posto Maria Letizia E quinto posto Maria Esther Complimenti a tutti Aspetta ma Maria Letizia Ma è un podio Aspetta Maria Letizia È nuova No Cosa dici tu Giulia Non lo so Vediamo Maria Letizia Gardu Eh Credo sia no Benvenuta Maria Letizia Dai dai Bene bene E Faustino Fa i complimenti A Mar Per essere Ancora sul podio Ah Ora Ora capisco Perché Perché Mar E Faustino Continuano a farsi Complimenti Perché hanno parlato Anche dal vivo Quindi si sono conosciuti Sì sono nuova Dalla Sardegna Maria Letizia Gardu Dalla Sardegna Quindi è italiana Ok Aspetta O è italiana Oppure vive In Sardegna Ah non lo so Non lo so È vero Annette dice a Marcello Non ti preoccupare Anch'io ho sbagliato tanto oggi Vabbè ma ragazzi Non fa niente Tra poco scaricherete il materiale E Sarà tutto a posto Dai Potete ripassare È giusto così Mani sulla tastiera Intanto un applauso Perché siamo a 150 mi piace Quindi un applausone A tutti quelli Che ci hanno lasciato Il loro mi piace Obbligatorio Ma ci sono tantissimi italiani C'è anche Mario Bottiglieri Al test siamo ammessi Anche noi italiani Ah guarda Sì Siete ammessi Vediamo se riuscite a battere I nostri amici Perché sono velocissimi E 8 Felini dice 8 è anche il secondo Digito dell'età di Mario Secondo numero Grande Claudio Cioè lui si ricorda Che 8 Non solo è il nome del cane Ma è anche la seconda cifra Dell'età di Mario Esatto Che per scoprire la cifra Dovete andare a vedere Una delle nostre dirette passate Ma Mario è collegato Mario battiti un colpo Se ci sei E tra l'altro E anche l'età di sua figlia Di Fellini Ah è l'età della figlia Di Claudio Fellini Sì 8 8 anni Ah che numero è E Maria Letizia italiana No vabbè Allora abbiamo avuto Il critico passeggero italiano Raff italiano Mario se non sbaglio Maria Letizia E anche Mario Bottiglieri E anche Giovanni Che ci sta seguendo Ma ragazzi Tantissimi italiani Ragazzi Tanti italiani Fantastico Bello mi piace Una comunità E salutiamo anche Isabella Isa Ciao ciao From Poland Ciao Benvenuta E salutiamo anche C'era un'altra persona Da New York Phil Johnson Ciao un grande saluto Da New York Fantastico Ok Mani sulla testiera E intanto Faustino Con Lucas Che continuano a parlare Del Degli amici in comune Faustino chiede A Lucas Di quale settore Sono i tuoi amici Cioè significa Di quale area Della città Perché Guadalajara È grande C'è Ciudad Nueva Ciudad Vieja Non lo so Ci sono tante aree Della città E Mario sta facendo latino Dobbiamo salvarlo Salutiamo anche Freak Mormon Da Orlando Carlo Tu è latino Ragazzi dai 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 Tante persone Salutiamo anche Gustavo VR Ferreira Da Maragnao Brasile Fellini vuole radunare Tutti gli italiani Qui sul canale Di Piazza Square Sì Ci sta Anche noi Ci sta Ragazzi 3 2 1 Vai Con la prossima Marco Non Comportato molto bene Con i suoi genitori Mannaggia a te È una delle Frecazioni Ducate Comunque Laila dice Un saluto dal Marocco E Mene Laus dice Vi voglio bene Anche noi Ve ne vogliamo Faustino Non sono mai andato a Guadalajara Purtroppo Ma ho tanti amici di Guadalajara Che mi hanno parlato della città Sì sì Tanti tanti amici di Guadalajara Vabbè ma Guadalajara è una metropoli messicana A tantissimi abitanti Nello stato del Jalisco Allora Comportarsi 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 bene Vi ho dato già un indizio Che la particella è Sì Abbiamo qualcuno dal Vietnam Ann Damiana Ciao dal Vietnam Ah Mario si è ritirato Ha detto Lasciamo dare la risposta A chi deve imparare Onesto Onesto dai E vabbè ma Mario Guarda che Alcune volte I nostri amici Sono più bravi Degli italiani Sono più veloci Più che altro Sono esatto Non solo più bravi Ma più veloci proprio Rispondono Perché sono anche allenati E stiamo facendo compagnia a Mario Mentre studia latino Quindi rimane Rimane con noi Ottima scelta Rimani E nel frattempo Ma Mario Perché studi latino Sei alle superiori Magari per scuola Fa il liceo magari Non lo so Se no l'alternativa È di sua spontanea volontà Che dubito Beh c'è qualcuno Che studia latino Per passione Sono in pochi Però potrebbe essere Sì all'università Magari Sì esatto Allora Annette chiede a Maria Letizia Dove abita in Sardegna Eh vabbè Si conoscono tra di loro Magari che ne so Perché non vi incontri Vi potreste anche incontrare In futuro Purtroppo non è il momento giusto Però Ah ma Mario È in quarta superiore Quindi in quarta liceo Quindi sì Fa latino alle superiori Latino Ok Allora Marco non si è comportato Molto bene Con i suoi genitori Esatto Comportarsi Quindi io mi sono comportato Lui si è comportato Tu Ah tu ti le devo fare E dai Tu ti sei comportato Noi ci siamo comportati Voi vi siete comportati Loro si sono comportati Chiaro Quindi la risposta corretta È la B E ci fidiamo di Faustino Sappiamo che È imparziale Quando dà la classifica Quindi leggiamo Quella di Faustino Al primo posto Jean-Louis Chebridon Dream Team Bravissimo Complimentoni Jean-Louis Che ci fa tanti complimenti Ci chiama Piazza Cuore Piazza Square del Cuore Eccetera Secondo posto Annette Che brava Annette E al terzo posto Abbiamo una new entry Una nuova persona Nuova amica Che si classifica Al terzo posto Ed è De Margherita 98 Sì Poi Abbiamo Al Quinto posto Se non sbaglio Aspetta che vedo Un secondo No Quarto posto Fellini Claudio E al quinto posto Mira Smart Fantastico ragazzi Allora Ok Vabbè Annette continua a parlare Con Maria Letizia Della Sardegna Sai che secondo me Tra poco I nostri amici Comingeranno a vedersi E proprio diventare amici stretti Sì Ma anche perché Grazie ai gruppi Whatsapp O Telegram Che hanno creato Anche Lingua Franca O al gruppo Che ha Italiano in sette minuti Simone Poi Nominiamo anche Italissen Lorenzo Che sono i nostri amici Con cui Lavoriamo E facciamo Anche delle dirette Insieme Grazie a questi gruppi I nostri amici Hanno la possibilità Di parlare Tra di loro Fellini dice Che bella diretta raga Mi sono divertito un sacco Forse mi verrà mal di testa Perché ho messo alla prova Il mio cervello E il mio fegato E comunque Facendo tanti brindisi Gianluice Bridon dice Quarta volta che è sul podio Per la miseria Non ho più champagne In cantina Aiuto Però vedi come usa Le imprecazioni educate Sì Rachid Burasse Ciao ragazzi Sinceramente Avete creato Un ambiente Molto piacevole Ciò che aiuta Non solo ad imparare Ma anche a conoscere Gli altri Grazie Innanzitutto Grazie mille Però condivido Pieno la tua Opinione Diciamo Perché Anche secondo me È un ambiente Veramente piacevole Per incontrare nuove persone Per Imparare l'italiano Insieme In modo divertente Che Altrimenti Sarebbe difficile No? Senza internet Senza youtube Poter fare queste cose Noi l'abbiamo Detto più volte Se ci fosse un canale Come il nostro In tedesco In tedesco O in portoghese Insomma In qualche altra lingua Che dobbiamo ancora imparare Sarebbe fantastico Lo seguiremmo Quindi amici Se volete Aprire un canale Fatelo Copiate il nostro Per favore Perché noi vogliamo imparare Il tedesco Ma con un format divertente Così come il nostro Ah De Margherita 98 Dalla Sicilia Anche Quindi un'altra italiana Dalla Sicilia De Margherita 98 Tutti italiani oggi E diamo però La buonanotte A Beate Che deve andare a dormire Grazie Beate Per essere stata con noi Grazie mille È stato un piacere È stato un piacere Vederti sul podio Così tante volte Complimenti E buonanotte Noi facciamo l'ultima E poi passiamo ai saluti Che dici? Sì sì ci sta Sei d'accordo Quindi amici Pronti con l'ultima Mani sulla tastiera 3 2 1 Vai con l'ultima Bellissima Modi di dire Datti all'ippica Bellissima Cosa vuol dire Datti all'ippica? Questa è un'esclamazione Un invito Che si fa a chi? A chi ha molti soldi? A chi è incapace? A chi è uno dei migliori? O a chi ama i cavalli? A chi si dice Datti all'ippica? E ci dice Pitfly Non si può copiare Perché siete unici Va bene Grazie Pitfly Ma guarda Se qualcuno Volesse aprire Il canale Uguale al nostro In tedesco Noi vi potremmo Spiegare tutti i trucchi Vedi Annette dice Vorrei aprire un canale Per il tedesco Volentieri Ma non mi ritengo Capace di farlo Peccato Sarebbe davvero bello Magari Con il tempo Ti sentirai All'altezza Ma non ti preoccupare Perché anche noi Quando abbiamo aperto Non eravamo Ovviamente Come siamo Ora Quindi E allora Ippica mi suona Ai cavalli Dice milagro minuti Infatti è proprio così Proprio così L'ippica È proprio chi ha a che fare Con i cavalli È la disciplina La disciplina Che ha a che fare Con i cavalli E Raf deve svelarci Un piccolo segreto Ora ci dice Che non è italiano Allora ragazzi Datti all'ippica Significa Sei incapace Sì Ti avevo chiesto Di fare questo E non sei riuscito A farlo Sei proprio un incapace Datti all'ippica Significa Cambia mestiere Fai qualcos'altro Perché questo Non sei capace Di farlo Questo Non sei capace Di farlo Cioè Cambia proprio Completamente Va bene Raf Io sto aspettando Questo segreto Eh sì Qual è il segreto Di Raf Non lo so Ma Claudio cosa ha detto Questa la sapeva Claudia Claudio Sono curioso Di saperlo Perché Claudio È il nostro Re Dei modi Di dire Vediamo Vediamo se Claudio la sapeva Ragazzi Scusatemi L'ho azzeccato L'ho azzeccato Esattamente Il contrario Eh Non ho capito Vabbè Aspetta Dobbiamo vedere Cosa ha risposto Avrà detto C Forse Vai giù Non la trovo C Infatti Sei dei migliori Che è esattamente Contrario Ma è bello Per me comunque Poter insegnare Un modo di dire A Claudio A Claudio Difficile Cioè È proprio Missione compiuta Ragazzi Questo come dicevi tu È un insulto Educato Allora Il piccolo segreto Di Raf È che ha 17 anni Ah Bene Però è italiano Ci rassicura Ciao dall'Umbria Vedi Alessia Ferrara Dall'Umbria Ciao Alessia Benvenuta anche a te Questa sera È stata proprio La serata In cui Abbiamo avuto La più grande Quantità Di italiani Sì Mi sa proprio di sì Il maggior numero La quantità Non è proprio Corretto Oggi abbiamo fatto Una diretta Più lunga Ragazzi Per recuperare Quello che abbiamo Perso La scorsa settimana Ma noi Ci vediamo Sempre Puntuali Anche in anticipo Oggi No Due minuti in ritardo Alla fine È arrivata la classifica Alle 20 e 30 Che dici Giulia Leggiamo la classifica E poi andiamo ai saluti Allora Allora Il primo posto Dito più veloce Per l'ultima domanda L'ultima frase L'ultimo modo di dire Di questa diretta Se lo aggiudica Rosa Rinaromi Complimenti Al secondo posto C'è Mar Persephone Underworld Complimenti Terzo posto Di Maria Esther Quarto posto Di Anna C Anna C Ania E dice Ania Faustino Ok Quinto posto Per Alina Top Bravi Ma aspetta È una Classifica Femminile È una classifica Completamente Femminile Sì 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 Brave ragazze Brave E Faustino dice Anna C Sei sul podio E arriva la donazione Da Vera Friedrich E de gole De gole De gole De gole De gole Grazie Vera Vorremmo fare un altro Brindisi Vera Ma purtroppo Carlo Si è finito Tutta la birra Va bene Non fa niente Vera Era quella piccola Grazie mille Di cuore E ci scrive Thanks for being you Grazie Vera Grazie anche per essere rimasta Fino ad ora Perché in Russia Non so se è un'ora in più O due Sì E poi Grazie mille Ci vediamo dopo Dice Alin's Travels Su Instagram Quindi invita Gli amici a seguirla Su Alin's Travels Si dice Studiare A manetta A manetta A studiare a manetta Noi diciamo studiare a manetta A manetta Cioè studiare tanto C'è stata L'invasione Degli italiani Questa sera Ma siete tutti benvenuti Anche Talk Italian With a Ron Italiano Esatto Giusto Eh sì È un'ora in più Un'ora in più Esatto Col fuso orario C'è stato Una volta era due Se non sbaglio Sì adesso Solamente un'ora in più Bene ragazzi È stato veramente Un piacere Siamo molto soddisfatti Di questa diretta Secondo me È andata molto bene Siamo molto molto felici Sì Eravamo numerosi E Ci sono state un paio di gaff C'è stata una domanda Che era un po' Maffanina Al contrario Di come la intendevamo Però Tutto sommato Benissimo Direi Correggiamo queste piccolezze Carichiamo tutto Preciso Esatto Sul nostro sito Quindi per chi Volesse rimanere con noi Amici Andate tutti a visitare Il nostro sito Piazzasquareitaliano.com Lo trovate Nel primo commento Bloccato in alto Sul nostro sito Trovate gli ebook Gli ebook gratuiti I materiali Di ogni diretta Quindi potete scaricare Tantissimo materiale gratuito Esatto Ebook Dirette Instagram Tutto E trovate Il pulsante Per lasciarci Una donazione Paypal Ragazzi La donazione Per noi È importante Perché è quello Che ci permette Di dedicare tempo A questa attività Se le donazioni Un giorno Arrivassero Ad essere Veramente Importanti Le donazioni Insieme alla pubblicità Di youtube Che purtroppo Non è Molto Noi potremmo Anche pensare Di dedicarci Noi Comunque vada Comunque vada Comunque Non solo la donazione Ci aiuta Anche a condividere Amici Condividete Con i vostri amici Parenti Cugini Invitate tutti Quelli che conoscete Ad imparare l'italiano Con noi E noi Ci vediamo Martedì prossimo 8 e mezza Ciao ragazzi Un saluto A tutti Ciao amici Grazie mille Per aver partecipato Vi vogliamo bene Buon anno